Grazie a tutti. Era importante ed è importante affrontare il tema ormai immaginifico dell'intelligenza artificiale con un dialogo serrato fra il mondo giuridico e il mondo dei veri esperti del tema che vanno dall'informatica alle tecnologie alla filosofia alle scienze economiche, insomma tutti quei saperi che sono anche alla base del metodo che segue il paradigma dell'intelligenza artificiale. E per un'accademia del codice di internet che è composta prevalentemente da studiosi di diritto è veramente prezioso questo confronto e questo incontro con i tecnici della materia. Tutto questo avviene nell'orizzonte di un bel volume di Longo e Scorza che è stato credo letto da tutti i relatori e che ci consente di sollecitare alcuni punti, alcuni snodi. Con l'occasione dico anche che con oggi si aprono le iscrizioni al master sull'intelligenza artificiale che quindi in qualche modo questo nostro incontro dà avvio alla riedizione del master. Mi dicono che siamo stati i primi in Italia a farlo dentro i contenuti giuridici ed etici, abbiamo messo insieme diritto ed etica ed è riuscito molto bene. Ora tutte queste lezioni del master che sono state videoregistrate sono a disposizione come una sorta di riedizione per i ritardatari, quelli che non hanno fatto in tempo a iscriversi al master possono a questo punto iscriversi nella piattaforma e di qui a giugno conseguire il titolo attraverso la fruizione online. Poi a settembre ne faremo invece una vera e propria seconda edizione con dunque tutte le caratteristiche di un nuovo master con anche evidentemente degli innesti sia in quanto a docenti sia in quanto a contenuti perché l'evoluzione è tale che quel master ovviamente settembre prossimo è diventato obsoleto. Quindi ringrazio davvero tutti a nome dell'Accademia Italiana del Codice di Internet e do la parola al nostro ospite il dottor Longo che ringrazio moltissimo sia per la moderazione di questo incontro sia per darci l'opportunità nel commento al suo volume di Guido Scorza di questa bella iniziativa. A te la parola e immagino anche a Quinta Reco. Vi ringrazio perché effettivamente di aver citato anche il libro che ricordiamo è uscito per Mondadori Università quindi è un libro effettivamente rivolto alle università, rivolto agli studenti però in realtà non solo sicuramente l'uscita universitaria riflette che è un libro accademico, scientifico che vuole essere anche un manuale d'uso della conoscenza dell'intelligenza artificiale. Ma perché abbiamo fatto questo libro? Semplicemente i motivi emergeranno probabilmente durante questo stesso evento. Sono gli stessi per cui stiamo facendo questo evento. trovare un modo per creare una conoscenza multidisciplinare della materia perché secondo noi è l'unico modo che abbiamo per far crescere la consapevolezza di questo cambiamento e indirizzare il cambiamento verso una direzione che vada bene per la crescita della società e anche parare eventualmente i rischi che questo stesso cambiamento ha in sé, come vedremo nel corso di questa giornata. Ora, l'apertura era assegnata a Stefano Quintarelli che non so se è riuscito a connettersi, aveva dei problemi di internet, mi ha detto pochi minuti fa e quindi non saprei se c'è adesso, dovrei scorrere tutti i partecipanti. Quando eravamo all'epoca del fisico, degli atomi, bastava dare uno sguardo alla platea, invece in questo caso chiederò aiuto se si è collegato oppure no. Va bene, se non si palesa vuol dire che ancora non c'è, quindi significherà che proveremo, adesso provo a scriverli, proveremo a vedere se... Va bene, abbiamo questo imprevisto, facciamo che quando si collega si troveremo un modo per infilarlo, magari a questo punto il primo slot sarebbe dopo guido per coerenza con tutto il resto. Allora, quello che ci stiamo notando, io e anche altri esperti che affrontano il tema dell'intelligenza artificiale, stanno uscendo tantissimi libri al riguardo, sempre più di carattere ampio, non più solo tecnico, tecnologico, ma più ampio, è che l'intelligenza artificiale sta aumentando la propria impronta sul mondo. Questo è qualcosa di cui ce ne stiamo accorgendo man mano che va avanti la cronaca di questi giorni, anche questi giorni stessi ce lo stanno dicendo, secondo già i primi esperti, i primi piccoli iniziali studi, il Covid, la pandemia, ma anche in generale la crisi economica associata al Covid, può fungere come acceleratore del fenomeno, sicuramente spinge in favore dell'automazione, e questo almeno nel medio-lungo periodo, se non nel breve periodo, quindi intanto sto cercando di capire che Quintarelli si ricollega comunque. Sono già qui, Alessandro. Ah, ti sei collegato? Va bene, allora Stefano, ok. Facciamo che quindi io rimando il mio discorso, tanto l'avevo appena solo abbozzato, ti lascio l'introduzione, che comunque è vicino a quello, all'argomento di cui stavo parlando, cioè la crescita dell'impronta sul mondo dell'intelligenza artificiale, e poi approfondirò io quello che volevo dire. Quindi Stefano, prego, hai 15 minuti circa. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Un caro saluto a tutti gli amici e le amiche. Ma cominciamo col dire che negli anni 70 chi sapeva fare una radice quadrata era solo una persona intelligente e preparata. Non a caso quando sono arrivate le calcolatrici, sono state chiamate, se uno va a guardare i giornali dell'epoca, i calcolatori intelligenti, e c'era tutta una serie di polemiche sul fatto che le persone sarebbero state, sarebbero diventate più stupide per effetto del fatto che una parte importante della loro intelligenza, delle loro competenze, erano prese da delle macchine. In realtà oggi noi non considereremmo una calcolatrice un oggetto intelligente. Questo per dire che il perimetro di quello che intendiamo come intelligenza si sposta nel tempo. Certo c'è un fatto che oggi io manco mi ricordo come si fa a fare una radice quadrata e che sicuramente una calcolatrice, un calcolatore, riesce a fare infinite radici quadrate nel tempo in cui io ne faccio una, casomale se riescisse. E questo ci dice una prima cosa, che quando un'attività esce dal perimetro caratteristico dell'attività umana dentro è quello delle macchine, immediatamente, grazie a legge di Moore, insomma alle proprietà dell'immateriale, come ho scritto nel mio libro, aumenta di un fattore di scala enorme. Scala e velocità crescono in un modo enorme, mostruoso, ben oltre i limiti della capacità umana. Oggi le calcolatrici sono indubbiamente molto più brave di noi a fare radici quadrate, seni, coseni, tangenti, perboliche, eccetera. Non le consideriamo intelligenti, capiamo che devono essere invocate e che sanno fare solo quello in definitiva. Ecco, però questo è un punto importante, la scala è un punto importante. Ora, passiamo all'intelligenza artificiale, il particolare dell'intelligenza artificiale, mi soffermo sul machine learning, e il machine learning è la cosa che ha determinato il boom dell'intelligenza artificiale in questo periodo. Non dobbiamo... ...metafora come parola, e tutte le metafore hanno dei limiti, quindi non dobbiamo proiettarla troppo oltre quello che può essere, anche se molti lo fanno. Grazie. 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 Alessandro, io Stefano non lo sento più, penso anche... Non si senti più. No. Vedo un blocco immagine con la sua effigie efficace, ma non... Sì, scusate, adesso torno. Sì, Stefano mi aveva detto che aveva dei problemi con internet, quindi questo... Sono ritornato. C'è l'intelligenza artificiale, questo default della rete... Stefano è stato sare perché Stefano, io come scrivo sempre su Repubblica, è stato uno dei padri dell'internet commerciale, quindi il fatto che a casa... Avrei dovuto continuare, avrei dovuto continuare. Sì, forse. Senti, posso suggerirti di fare solo audio, quindi magari regge di più. L'ho già fatto, ho tolto il mio video. Sì, anche l'audio ha problemi. Mi scuso con i partecipanti all'evento. C'è stato fatto pare un down della rete casalinga di Stefano Quintarelli. Può succedere? Il backup su mobile... È erratico, adesso va. Cerco di arrivare direttamente al punto. Vediamo se mi sentite, mi sentite? Sì, sì, molto bene. Allora, il punto è... Questa è programmazione statistica, no? Il machine learning è come il proverbio rosso di sera, bel tempo si spera. Guardo la realtà, osservo la correlazione tra il rosso e bel tempo, di stile del modello. Però è un modello statistico. Essendo un modello statistico, ogni tanto sbaglia. Allora, la prima cosa... Però, questo modello statistico ci consente di usare l'informatica per tipi di programmazione statistica, per tipi di problemi che sono diversi rispetto a quelli dell'informatica algoritmica tradizionale. E quindi riportiamo... Riusciamo a risolvere problemi di percezione e classificazione, da cui anche previsione, percezione e classificazione e eredita il fatto che quando una cosa la fa la macchina la scala è infinita. Se pensiamo ai 50.000 fotosegnalati che c'erano quando le fotosegnalette che erano gestite con i cartellini a mano, ecco che oggi i fotosegnalati sono decine di milioni. Perché? Perché riesce a farlo la macchina. E quindi la scala e la velocità sono impressionanti al di là delle capacità umane. Però questo cambia la natura, perché prima c'erano dei limiti e tutte le regole che avevamo pensato erano pensate tenendo conto implicitamente dei limiti della materialità. Si sente? Si, si. Si, si, si sente. Implicitamente i limiti della materialità. Non potevamo guardare 10 milioni di cartellini. Era impossibile. Oggi invece lo fa la macchina e quindi la scala e la velocità, così come con le radici quadrate, è enorme e va al di là delle cose. e quindi cambia il contesto di alcune applicazioni che noi avevamo normato. E questo è un problema, perché entriamo nel dominio appunto di percezione e classificazione e tutto quello che prima era competenza esclusiva degli uomini adesso diventa appannaggio delle macchine con scala e velocità enorme. La quantità è una qualità in sé, diceva Stalin. Vanno ancora bene le regole di prima? Boh, il fatto dei cartellini fotosegno elettrici dovrebbe farci riflettere sulla schedatura di NASA. Poi, essendo macchine statistiche, ogni tanto sbagliano. Ma non è che sbagliano perché sono difettose. Sono macchine perfettamente funzionanti, perfettamente addestrate, allenate, chiamiamola come vuole, come vogliamo, modello statistico perfettamente derivato, tutto fatto a regola d'arte e noi sappiamo che assolutamente ogni tanto la predizione e la classificazione saranno errate. Perché è così? Perché è intrinseco nella tecnologia. Se noi prendiamo queste cose, non è come l'autovelox. L'autovelox si dice che hai fatto 52, hai fatto 52, è deterministico. Questo ogni tanto sbaglia. E allora, visto che ogni tanto sbaglia per costruzione, dobbiamo saperlo. E quando le cose possono avere un impatto sulle decisioni, le classificazioni, possono avere un impatto sulla vita delle persone, ecco che dobbiamo mettere in campo dei meccanismi per poter individuare gli errori di predizione e correggerli. Perché altrimenti rischiamo di dare un pregiudizio alle persone. Qui naturalmente la cultura cinese è avvantaggiata, perché lì conta il benessere collettivo, se poi ci scappa anche qualcuno, qualcosa di male per qualcuno, insomma, vabbè, fa niente. Da noi, invece, per i nostri valori, questa è una cosa non ammissibile. Quindi è importante, quando pensiamo all'introduzione di un sistema di questo genere, pensare alla formazione degli operatori, che devono sapere che le macchine ogni tanto si sbagliano, e avere in piedi dei processi, dei procedimenti e delle tecniche che ci consentano di rilevare l'errore e di correggerlo. Quello che viene chiamato il redress by design. Nessuno di noi, credo, salirebbe su un aereo completamente guidato dall'intelligenza artificiale, da un'intelligenza artificiale, ne vorremmo magari tre che parlano tra di loro, addestrate su modelli diversi e che quando la predizione delle tre è discorde, a quel punto ci intervenga un umano che prenda una decisione. Questo è un esempio banale di redress by design. L'ultima considerazione, proprio per il fatto che sono sistemi non deterministici, noi non possiamo avere ci sono dei casi in cui la macchina perfettamente funzionante prende delle decisioni errate. Pensiamo a un deambulatore per anziani. L'ambulatore per anziani vede che la persona che l'atteano sta per cadere e lo rimette in piedi e lo tira in piedi. Sono degli scheletri. Ogni tanto capiterà che pur funzionando perfettamente ed essendo perfettamente addestrato, un anziano che non sta cadendo verrà buttato per terra e gli si romperà il femore. Ora, il problema è vedere se l'introduzione di questo dispositivo migliora la vita complessivamente oppure se Nonna Maria faccio un altro esempio forse ancora più semplice. Pensiamo alle auto autonome sulle quali io sono molto scettico in modo diffuso, cioè penso che saranno in ambienti controllati. Le auto autonome, se oggi ci sono 10.000 morti e per l'introduzione di auto autonome scendiamo a 1.000, è un vantaggio enorme per la società. Però una parte di quei 1.000 saranno percezioni, classificazioni e decisioni errate da parte dell'intelligenza artificiale di un sistema perfettamente funzionante. Chi è il responsabile? Certo, c'è tutto il tema della liability civile e penale, però il punto chiave è che non possiamo limitarci alla singola istanza per poter dire qui c'è un errore, perché la macchina è perfettamente funzionante, quindi l'errore non c'è. Dobbiamo vedere se nel complesso, tra tutte le auto, il beneficio per la società è stato maggiore rispetto alla situazione precedente, essendo un comportamento statistico. Questa cosa non è nuova, è così anche le medicine. Nelle medicine noi sappiamo che in alcuni casi una medicina, un farmaco può portare anche alla premorienza. E come facciamo a gestire il rischio? Facciamo dei test, dei trial prima, poi introduciamo in commercio, ogni tanto capita che ci sia un caso e quello è, vabbè, sfortuna fa parte della statistica, fa parte della statistica, però tutti i procedimenti per l'introduzione in commercio, per il testing, eccetera, sono stati osservati in modo regolare e quindi non c'è una liability da parte del produttore. Ovviamente non tutte le applicazioni dell'intelligenza artificiale richiedono un simile schema o lo richiederanno, alcune, quelle più sensibili perché possono avere effetti devastanti sulla vita delle persone, invece lo richiederanno, così come nei farmaci. se io ho bisogno, se io ho un'intelligenza artificiale che mi regola il riscaldamento in casa, vabbè, se invece di 22 gradi ce ne sono 18, un giorno poco male, se invece appunto mi ammazzano una Maria, è diverso. Quindi ci sarà una graduazione di applicazioni con regole diverse. La cosa, non deve stupirci perché lo facciamo già, se noi ci coltiviamo l'insalata nell'orto, ce la coltiviamo e ce la mangiamo, se la compriamo al supermercato dall'ortolano, ci sono delle regole. Se poi la nutraceutica, i cibi funzionali, hanno delle regole diverse, i farmaci da banco hanno regole diverse, i farmaci sotto ricetta hanno regole diverse, poi ce ne sono alcuni che vengono dati solo in ospedale sotto stretto controllo. Questo elenco di questa graduazione esisterà anche per applicazione dell'intelligenza artificiale nel tempo, non sarà una cosa immediata, ci abbiamo messo molti secoli per le medicine, ci metteremmo sicuramente molti decenni per l'intelligenza artificiale, però lì si arriverà, si arriverà a un'autorità di regolamentazione che consenta per determinati casi che fornisca l'autorizzazione alla messa in commercio e all'utilizzo di queste tecnologie, proprio perché sono macchine statistiche che ogni tanto sbagliano, ma non possiamo guardare all'effetto del singolo caso, dobbiamo guardare all'effetto complessivo. Non sono come le leggi sulla difettosità e la liability, se la macchina è difettosa, se c'è un guasto si va a vedere se i parametri della difettosità e non è così, perché questa è una macchina perfettamente funzionante che causa un problema. Quindi tornando per riassumere le tre cose, percezione e classificazione ha una velocità, una scala enormemente superiore a quella degli umani che ci porta a riconsiderare alcune delle cose che stiamo facendo. Seconda cosa, il fatto che sono macchine statistiche e quindi sbagliano e quindi la necessità di intervenire by design dal momento del disegno del sistema e della formazione delle persone per mitigare gli effetti delle predizioni errate e terza cosa, il fatto che essendo macchine statistiche in alcuni casi non possiamo considerare l'effetto locale della singola istanza, ma dobbiamo considerare l'effetto complessivo. Questo era quello che volevo dirvi e che vi avrei detto in un modo più rotondo e più argomentato se l'avessi anche potuto vedere e parlare senza problemi tecnici. Mi scuso, il Wi-Fi di casa oggi è giù e qui il campo della rete è veramente pessimo. Spero che si sia capito. Sì, sì, è chiaro, è chiaro, Stefano, quello che porto a casa, diciamo così, anche se sono già a casa da questo tuo intervento è che il livello del cambiamento in atto è tale che vanno cambiati anche i nostri parametri mentali per concepirlo e quindi anche per adattarci a questo cambiamento. bisogna bisogna ritarare il nostro sistema di regolazione ritarare il modo in cui anche studiamo questo cambiamento per non tagliare i concetti con l'accetta in modo eccessivo almeno questo quando tu dici che l'impatto da studiare da realizzare da gestire cambia a seconda dell'ambito del settore non bisogna nemmeno guardare l'impatto immediato ma anche guardarlo nella prospettiva più ampia quindi effettivamente e questo riporta ancora la necessità credo di uno studio dell'intelligenza artificiale quello che insomma intendiamo questo termine sempre più possibilmente multidisciplinare perché è l'unico approccio complesso che possiamo avere a una materia che è così complessa nelle sue applicazioni nelle sue esternazioni così tanto diversificate a seconda del settore in cui si attua è il motivo poi alla base di questo anche dell'approccio che abbiamo avuto che stiamo avendo con questo evento che vede la partecipazione di persone di diversi ambiti accademici e anche permettetemi di ripetere l'approccio che abbiamo avuto con io e Guido che insomma mi è venuto in mente perché adesso Guido lo vedo collegato finalmente con noi Guido dove però aspettare forse una mezz'oretta perché per il tuo intervento adesso era previsto era previsto che spiegassi un pochino io il quadro della ricerca che stiamo facendo con Guido ma non è solo la nostra ricerca secondo quello che ho potuto leggere negli ultimi anni è un po' lo stato dell'arte della riflessione sull'intelligenza artificiale almeno da un punto di vista non tecnico ma più multidisciplinare quindi più concentrato sugli impatti dicevo prima l'intelligenza artificiale sta aumentando la propria impronta sul mondo questo probabilmente lo si vedrà ancora più chiaramente nei prossimi mesi quando usciremo dalla crisi dalla crisi pandemica però già un'analisi empirica di quello che sta succedendo in questi giorni ci fa capire che l'intelligenza artificiale è diventata come una vista atergo si può usare questa espressione insomma una forza sottostante a molti eventi che è un fattore onnipresente o quasi in quello che succede atergo è qualcosa che spesso non vediamo per esempio non saremmo mai riusciti probabilmente ad avere un vaccino covid in tre mesi tanto ci hanno messo a produrlo poi tutta la sperimentazione chiaramente però in tre mesi ecco senza l'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale ha accelerato la ricerca del vaccino poi magari approfondiamo questo aspetto però per citare altri esempi qualche giorno fa a gennaio si è dimesso il governo olandese forse come ho scritto anche su agendadigitale.eu la mia testata è la prima volta forse nella storia in cui non vorrei essere smentito un governo si dimette per colpa di un algoritmo è un po' tranciante come affermazione però effettivamente si è dimesso per gli errori dell'algoritmo che veniva utilizzato dallo stesso governo per il welfare questo è un algoritmo antifrode e doveva capire chi ingannava nella dicezione dei sussidi di welfare e si è scoperto i sociali delle inchieste amnesty international eccetera e anche una sentenza della corte d'appello dell'AIA che chiedeva un blocco di questo algoritmo si è scoperto che l'algoritmo sbagliava e ingiustamente aveva discriminato 20.000 cittadini e aveva tolto loro il sussidio ingiustamente è un esempio molto interessante non solo che rivela quanto gli algoritmi ti stiano diffondendo anche ai massimi livelli istituzionali anche per questioni estremamente importanti per il benessere della cittadinanza ma è rilevante e rivelante questo esempio anche per dirci i rischi ovviamente di discriminazione che spesso se non diciamo che spesso incombono possiamo dire così sull'utilizzo di questi strumenti e quindi si sta consolidando l'idea in letteratura quello che ho potuto vedere anche nelle ultime uscite che l'intelligenza artificiale sembra essere rappresentare un po' il modo in cui la trasformazione digitale più entra dentro le nostre vite le nostre società le nostre economie quindi è un modo a 360 gradi e molto profondo di impattare tutti gli ambiti sociali e questo è un punto sottolineato anche dal nostro libro ma anche da quello recente di Stefano di Quintarelli che effettivamente ha nel titolo anche che effetti avrà l'intelligenza artificiale è uscito per Bollati Borlingheri e questi noi ma anche altri autori proprio derivano da questa considerazione la necessità di sviluppare quella che molti chiamano AI literacy ormai cioè un'istruzione se vogliamo educazione civica digitale ben condita di intelligenza artificiale quindi aumentare la consapevolezza della popolazione in senso ampio ma anche di alcune professioni di alcuni gangli nevralgici della società la consapevolezza di questo cambiamento cosa sta succedendo come funziona questa tecnologia quali impatti avrà questo è un tema per me molto rilevante è evidente il ruolo dell'accademia anche quello che stiamo facendo anche in questo istante effettivamente che è un ruolo che ha penso soprattutto in questa fase un significato strategico per il benessere del sistema paese in senso generale poi approfondiamo anche questo aspetto noi possiamo provare a tripartire l'impatti dell'intelligenza artificiale guardando questo punto di vista ci sono ci sono alcuni aspetti dell'intelligenza artificiale che effettivamente già alcuni almeno applicazioni che già hanno degli impatti positivi senza dubbio almeno a un livello superficiale il primo che viene è quello sanitario poi lo possiamo anche vedere un po' meglio poi ci sono alcuni impatti che possono avere effetti molto positivi o molto negativi a seconda del modo in cui la società riesce a gestirli quindi il legislatore ma non solo anche la società civile ha una grossa responsabilità in questa fase per dirigere questa forza del cambiamento per il bene per il bene collettivo e guarda in questo ambito vedo soprattutto gli impatti socio-economici tutto quello che rientra nella cosiddetta quarta rivoluzione industriale poi abbiamo anche Mauro Lombardi che è un economista evitato parlare qui e molti studi penso soprattutto a World Economic Forum come Think Tank sottolinea l'importanza di dirigere questo cambiamento verso interessi collettivi per avere molti effetti positivi di contro c'è un rischio di molti effetti negativi se invece l'intelligenza artificiale sarà lasciata libera di esercitarsi con semplicemente in mente interessi di produttività di efficienza di aumento dei profitti e quindi conseguente spereguazione economica poi ci sono alcuni aspetti applicativi dell'intelligenza artificiale che già subito sollevano sospetti sollevano l'esigenza almeno di premere il pulsante della pausa per questo cambiamento tra i primissimi su cui si sono concentrando un po' tutti ecco sicuramente il riconoscimento facciale e anche tutti quelli utilizzi dell'intelligenza artificiale che vanno direttamente aumentare il rischio di sorveglianza massiva della popolazione questo è un aspetto di grande attenzione che pure va considerato quindi possiamo in questa maniera tripartita un po' riassumere gli impatti è un taglio di analisi semplificativo chiaramente ma forse anche permette al legislatore di avere una direzione per quanto riguarda gli impatti sanitari sono probabilmente quelli che ci sono più a cuore in questo momento a me interessa molto sottolineare come è stato un po' anticipato che già in tre mesi è stato possibile trovare un vaccino per il covid almeno un buon candidato che poi è stato confermato con i successivi mesi di sperimentazione umana capire come siamo riusciti grazie all'intelligenza artificiale anche grazie all'intelligenza artificiale ci permette di capire come funziona insomma questa tecnologia un po' l'aveva anche detto Stefano Quintarelli che in effetti è un tecnologo è un sistema statistico cioè grazie agli algoritmi e anche il supercalcolo che è associato a questi algoritmi i ricercatori hanno potuto accelerare il proprio lavoro perché l'ha fatto la macchina al posto loro la macchina ha preselezionato moltissime molecole le ha analizzate le ha combinate per capire quale fosse il candidato più su cui potenzialmente bisognava provare di più ad andare avanti approfondire quindi noi sappiamo che se vogliamo andare più nel dettaglio ci sono decine di migliaia di sottocomponenti nelle proteine esterne di un virus e come tantissimi dati che vanno rielaborati vanno analizzati machine learning permette di classificare tutta questa massa di dati e poi fare dei calcoli statistici per capire quali questi sottocomponenti sono in grado di sollecitare di più probabilmente una risposta immunitaria quindi insomma questo è un classico modo in cui l'intelligenza artificiale indirizza la ricerca e ti dice alla ricerca vedi secondo i miei calcoli probabilmente sono questi gli elementi in questo caso sono delle sottocomponenti di un virus però possono anche essere altri gli elementi per esempio per combattere i cambiamenti climatici ne dico una insomma e sono questi gli elementi su cui è più probabile è più probabile che è opportuno puntare la ricerca quindi poi loro hanno approfondito e hanno trovato il vaccino giusto in tempi più rapidi perché l'intelligenza artificiale ha automatizzato una parte della ricerca una parte della ricerca o non tutto analogamente pochi mesi fa sappiamo che l'AIFA l'agentità del farmaco ha dato il via libera allo studio clinico di un medicinale contro il covid il raloxifene e anche qui il principio attivo è stato trovato con una selezione automatica dei candidati è una cosa effettivamente se ci pensate simile a quello che fanno alcune aziende le grandi aziende sempre con l'intelligenza artificiale che seleziona i candidati migliori per un lavoro invece di guardare tutti i curriculum manualmente l'algoritmo dice ti seleziona ti preseleziona alcuni 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 candidati sugli altri e poi sta al selezionatore umano approfondire possibilmente ecco speriamo che questo anticipo un po' delle conclusioni speriamo che ci sia sempre il ruolo umano in quasi tutti se non proprio tutti gli ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale un ruolo umano che ci salvaguarda molto probabilmente dalle conseguenze più negative di questa automatizzazione è un po' anche anticipate da Stefano Quintarelli ricordiamo quindi da questo già si evince come l'intelligenza artificiale opera ci sono degli algoritmi questo lo dico a chi in ascolto è meno tecnico sono degli algoritmi che a livello statistico fanno alcuni calcoli però dietro c'è bisogno di due elementi molto di supporto molti dati che vanno analizzati il big data in questo caso nell'esempio del vaccino erano i dati sulle componenti del virus quindi prima di tutto bisogna raccogliere questi dati anche questo è compito della ricerca è stato molto importante avere fin da subito molti dati su questo virus da studiare però l'altro pilastro è il supercalcolo la potenza di compiuti la potenza di elaborazione dei dati quindi insomma sono questi tre elementi che possono possiamo dire reggono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale gli algoritmi che pure vanno continuamente affinati e molti dati a disposizione almeno una certa quantità sufficiente e poi con la potenza di calcolo che pure sta crescendo e potrebbe crescere ancora di più in futuro soprattutto se riusciamo a abbracciare il cosiddetto calcolo quantistico questo per dare un po' un quadro generale sempre per restare in sanità dove è più facile evidenziare il ruolo positivo dell'intelligenza artificiale ci sono anche altri ambiti applicativi già già adesso mentre parliamo esplicati nella realtà quindi per esempio notizia proprio di ieri stanno sviluppando il Meet Technology Review sta sviluppando le prime app per riconoscere il il covid negli asintomatici nei cosiddetti asintomatici come fa tramite l'analisi del suono del loro respiro quindi questo è un modo anche un modo insomma in cui l'intelligenza artificiale facilita la diagnosi quindi c'è una funzione diagnostica anche dell'intelligenza artificiale in sanità già avviene in tanti ambiti in oncologia da anni veramente in diversi ospedali i principali ospedali utilizzano gli algoritmi per facilitare la diagnosi per esempio vedono i medici diciamo così assegnano all'intelligenza artificiale delle immagini radiografiche e questa dice probabilmente qui c'è un segno di una patologia che va approfondita con ulteriore analisi così semplifica il lavoro del medico lo aiuta insomma a vedere alcune cose con altri occhi possiamo dire così si può fare anche a distanza questo discorso effettivamente soprattutto nei paesi in via di sviluppo stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per la diagnosi a distanza si immagina soprattutto in luoghi dove non ci sono ospedali dove ci sono pochi medici però magari basta qualche presidio medico per mandare alcune immagini di radiografiche dermatologiche insomma anche suoni di toste a ospedali a distanza lì elaborano queste immagini con algoritmi insomma sistemi di calcolo e rimandano in risponso a valle al luogo dove non c'è l'ospedale dicendo per esempio c'è alta probabilità che questa persona abbia la tubercolosi è un esempio reale viene fatto in India e sappiamo che ci sono per la diagnosi diversi diversi sistemi tra i più utilizzati tra i primi utilizzati negli ospedali del mondo e c'è il sistema Watson di IBM è stato uno dei pionieri ma non solo diagnosi non solo diagnosi anche l'intelligenza artificiale già suggerisce terapie quindi fa un'analisi della storia clinica del paziente tutto quello che sappiamo i sintomi ma anche la storia passata insomma delle terapie per quel tipo di patologia e poi anche di nuovo statisticamente probabilisticamente dice in queste circostanze molto probabilmente ha avuto efficacia questa terapia e non quest'altra quindi una elaborazione statistica che manualmente potrebbe essere molto lunga bisognerebbe leggere tutto quello che è stato fatto in quei casi manualmente ecco potete immaginare come viene semplificata l'attività del medico ha uno strumento che sa tutto della storia della medicina può rilaborare in modo intelligente i dati e poi giunge a un risponso e quindi con i dati presenti dati storici ecco ci sarebbero anche altri ambiti dell'intelligenza artificiale in sanità per esempio in chirurgia però effettivamente può bastare questo come quadro delle delle applicazioni positive in sanità però già da questo i più attenti di voi avranno notato che come diceva Stefano Quintarelli all'inizio cosa fa l'intelligenza artificiale non fa altro anche in sanità di utilizzare i dati presenti i dati storici che c'è tantissimo tuttavia questo approccio ha un forte limite cioè che riesce a provare a modificare il presente ecco possiamo dire così migliorarlo solamente grazie a una fotografia del passato sì del presente che però è già effettivamente il passato il sintomo della malattia e lo storico di quello che è avvenuto fino a quel momento in medicina e con quel paziente questo questo esempio ci fa già capire questo forte limite dell'intelligenza artificiale applicato alle cose umane è uscito un libro molto interessante di Frank Pasquali che è un professore della Brooklyn Law di New York Brooklyn Law School di New York e si chiama le nuove leggi della robotica che è uscito l'anno scorso che evidenzia l'importanza di avere continuamente il ruolo umano anche in sanità perché se no rischiamo di farci sfuggire tutto ciò che non può essere catalogato messo nel cassetto insomma della fotografia del passato per esempio se il medico dovesse decidere soltanto cosa fare la diagnosi della terapia insomma cosa fare solo con questa bellissima e magari ottima analisi del passato gli sfuggirebbero la possibilità di utilizzare la propria intuizione per prerogativa umana insomma per terapie nuove per un progresso delle terapie basato su un'intuizione che insomma non può essere racchiusa deterministicamente nello storico questa capacità è tipicamente umana e sarebbe un peccato perderla se affidassimo tutte le decisioni agli algoritmi perderemmo la possibilità di fare un progresso per esempio in ambito medico perché insomma non ci sarebbe la possibilità di uscire dal seminato diciamolo così questo è vero in sanità ma può anche essere vero in tantissimi altri ambiti per esempio negli ambiti sociali se stabilissimo esercizio dei diritti solo in base allo storico non ci sarebbe possibile un progresso di questi diritti verso una maggiore qualità per esempio verso la maggiore qualità di genere ci sono anche qui esempi molto calzanti di bias pregiudizi insomma degli algoritmi nell'assegnare nell'indicare la paga migliore per quel candidato sono usciti diversi diversi studi si è scoperto che in alcuni casi l'algoritmo diceva decideva diciamo così che la paga migliore per le donne dovesse essere inferiore rispetto alla paga decisa per gli uomini perché lo storico diceva che per quelle mansioni le donne erano pagate di meno allora insomma l'algoritmo incorporava incorpora in questo caso implicitamente un pregiudizio un pregiudizio sociale di genere però lo rende lo scolpisce nella pietra in questa maniera se l'algoritmo avere l'ultima parola quindi quindi insomma già entriamo in questa in questa maniera in quelli che sono considerati i rischi dell'intelligenza artificiale quello che di discriminazione per esempio di cui stiamo parlando adesso vale anche e soprattutto forse per le minoranze etniche che possono essere sottoposte al giudizio algoritmico solo guardando il loro passato c'è uno studio un libro in realtà che è stato tra i primissimi a occuparsene di Cathy O'Neill Weapons of Mass Destruction è uscito nel 2016 disponibile anche in italiano armi di istruzione matematica però la traduzione non rende il gioco di parola che spiega è stato uno dei primi a spiegare con tantissimi esempi come gli algoritmi hanno in sé fortissimamente questo questo pregiudizio questo rischio di pregiudizi e una cosa interessante è che il pregiudizio all'interno dell'algoritmo non è esplicito non c'è scritto che se vedi un nero lo devi trattare tu polizia ad esempio lo devi fermare o devi perquisire oppure se vedi una donna la devi pagare di meno sono dei pregiudizi che derivano implicitamente dalle correlazioni statistiche che l'algoritmo applica in base allo storico passato quindi ci sono già in America in uso i cosiddetti algoritmi di polizia predittiva che fanno appunto questo vedono dove sono i quartieri dove sono stati più crimini lì in quei quartieri che conoscono insomma che si conoscono e allora dice alla polizia con una mappa devi andare a fare lì i tuoi pattugliamenti quindi vuol dire che chi vive in quei posti sarà più soggetto di più probabilmente a perquisizioni a osservazioni speciali in questa maniera però come nota C.T. O. Neill cosa succede che perpetuiamo il passato nel presente chi vive in quei posti sarà discriminato semplicemente perché in quei posti in passato sono successi più spesso reati ora è una cosa molto bella che dice Frank Pasquali nel libro che ho citato prima dice ognuno di noi dovrebbe avere eticamente il diritto a essere giudicato da quello che fa non da quello che fanno altre persone statisticamente correlate a lui o lei per residenza ceto sociale colore della pelle questo l'algoritmo non discrimina il colore della pelle ma mette il ceto sociale e la residenza tra i fattori analizzati per le decisioni quindi a livello etico e poi anche di diritto bisogna tenere conto di queste considerazioni per parare il pericolo di discriminazione per i stessi principi sono stati considerati discriminatori alcuni algoritmi di welfare come appunto quello dell'olandese e questo non mi soffermo oltre solo cito brevissimamente che anche nella giustizia negli Stati Uniti sono utilizzati questi algoritmi per predire la migliore pena agli imputati anche qui sulla base dello storico sulla base di vari di vari fattori che però rischiano di essere per i motivi che abbiamo detto prima immediatamente discriminatori intanto per confermare l'attualità del tema pochi giorni fa c'è stata la sentenza del Tribunale di Bologna sull'algoritmo di Deliveroo ha detto che un algoritmo discriminatorio era un algoritmo discriminatorio perché decideva le sue decisioni alla fine penalizzavano alcune categorie di persone e ad esempio chi aveva problemi di salute veniva profondamente penalizzato al momento del ritorno sul lavoro non perché di nuovo nell'algoritmo ci fosse scritto chi va in malattia poi lo devi penalizzare pesantemente ma perché implicitamente da criteri di efficienza che erano intrinseci nell'algoritmo alla fine emergeva quella decisione ora questo è un concetto interessante perché gli algoritmi in molti ambiti per esempio quello delle assunzioni sono stati adottati con la speranza di ridurre le discriminazioni con l'idea che l'algoritmo fosse più neutro di un selezionatore umano quindi che aveva di fronte a sé un afroamericano una persona molto tatuata per fare due esempi ecco insomma non l'avrebbe discriminata perché un algoritmo è neutro non ha i nostri pregiudizi questo in parte può anche essere vero non si esclude che l'algoritmo possa contribuire a una maggiore oggettività però inevitabilmente l'algoritmo è stato sviluppato da esseri umani e si nutre di dati umani che possono incorporare comunque questi pregiudizi e l'aggravante è che quando l'algoritmo esercitare questi pregiudizi poi non c'è più appello diventa come uno stigma che si salta tutto quel processo di human backing insomma di analisi umana che potrebbe permettere di uscire dal binario tracciato dall'algoritmo sugli impatti socio-economici più di macroeconomia piacerebbe sentire poi Mauro Lombardi e quindi anche per brevità preferirei non soffermarmi adesso se non dicendo molto brevemente che anche vedendo gli ultimi studi del World Economic Forum sicuramente e anche dell'Ocse sicuro e probabilmente c'è un'accelerazione dell'automazione che se da una parte distruggerà molti lavori dall'altra ne creerà altri e le indicazioni che stanno dando i principali principali fonti questi due che ho citato ma anche altri come Accenture McKinsey ma anche ma altri ancora come Lagarde della Banca Centrale Europea del Fondo Monetario Internazionale che adesso la Banca Centrale Europea però all'epoca era lo diceva come nell'interno del Fondo Monetario Internazionale se non sbaglio insomma è che è necessario da parte della società di è necessario gestire questo cambiamento anche a livello macroeconomico in riferimento ai posti di lavoro ci sono diverse soluzioni al dilemma dell'automazione dei posti di lavoro che vengono progettati per esempio il rimedio che trovo più citato è la necessità dell'aumento la necessità del reskilling dei lavoratori della formazione per adattarli a questo cambiamento evitare eccessivamente lo shock della trasformazione e altri comunque suggeriscono la necessità di un sostegno al reddito persino ultimamente molti forse non molti però insomma un crescente numero di studiosi come lo stesso Frank Pasquale ma anche un po' il myth in alcuni articoli iniziano a dire forse bisognerebbe evitare di automatizzare alcune cose quindi frenare limitare l'automazione in senso almeno parzialmente Fran Pasquale dice in alcuni mestieri dobbiamo tenere la componente umana assolutamente in sanità per esempio anche nell'istruzione a prescindere dalla formazione dei lavoratori per nuove professioni eccetera al netto di tutto ciò comunque alcune un'automazione totale di alcune professioni sarebbe negativa di per sé anche un po' per i motivi che abbiamo detto prima ma c'è la perdita delle pregoative umane nella professionalità nella gestione delle questioni umane stesse ma anche perché è necessario conservare una quota umana di lavoro ecco a prescindere anche per motivi insomma nettamente economici c'è il questo provostio non vorrei anticipare Mauro Lombardi troppo però è interessante come Fran Pasquali citi Keynes il paradosso Fripp è una teoria di Keynes secondo cui l'efficienza l'obiettivo dell'aumento dell'efficienza economica che per aumentare la produttività alla lunga può portare a una crisi economica perché con la tecnologia si riduce il lavoro umano ma in questa maniera si riducono anche il potere di acquisto dei consumatori e a conseguenza poi non c'è nessuno che si compri i beni prodotti quindi un paradosso che Giadi Keynes secondo Fran Pasquale e anche altri ce l'abbiamo molto forte davanti a noi se continuiamo un'automazione indiscriminata senza considerare gli impatti macroeconomici ora da questo da questo quadro che vado un po' adesso a concludere da questa breve rassegna di casi di ambiti applicativi dell'intelligenza artificiale comprendiamo che ogni ambito applicativo presenta sfide e opportunità insomma nessuno di questi ambiti in toto si può ascrivere totalmente all'ambito dei rischi o delle promesse dell'intelligenza artificiale probabilmente in ciascuno di questi è necessario un'attenzione del regolatore un'attenzione della società civile per gestire il cambiamento e dirigerlo nella maniera corretta quindi la principale sfida un po' l'aveva anticipato anche Stefano Quintarelli che abbiamo davanti a noi probabilmente è quella di cercare di non considerare l'intelligenza artificiale come un monolite ma guardare proprio molto con un microscopio molto nel dettaglio qualsiasi ambito applicativo e anche all'interno di questo ambito applicativo vedere quali applicazioni hanno certi impatti e quali no e all'interno di queste stesse applicazioni poi dividere con il bisturi gli impatti evitando ad esempio quelle implicite conseguenze di discriminazione che possono emergere senza che ce ne accorgiamo quindi davvero è necessaria un'attenzione estremamente forte che può anche non essere facile per diversi motivi tra cui forse il principale è che gli algoritmi allo Stato spesso si presentano in modo poco trasparente quindi anche gli stessi sviluppatori di questi algoritmi non hanno la contezza precisa del motivo per cui sono arrivati gli algoritmi a una certa decisione una sfida che gli esperti chiamano di accountability anche dell'algoritmo che è sicuramente una delle sfide del legislatore tra le altre cose quindi da questa rassegna per quello che ci riguarda qual è la conclusione principale io credo come un po' anticipavo che sia molto necessario aumentare la cosiddetta AI literacy perché se l'ambito è così complesso ha delle ramificazioni così diversificate degli impatti che l'apparenza possono essere positivi ma dentro possono nascondere come un cavallo di troia un pericolo o anche viceversa insomma magari ecco ne usciamo soltanto con una cultura di massa di questi impatti e anche del funzionamento di questa tecnologia perché non può capire l'impatto senza senza conoscere il funzionamento un po' la commissione europea ha presente questi temi infatti sta elaborando dovrebbe uscire a marzo una strategia per l'intelligenza artificiale ben inteso lo scopo sempre duplice da una parte continuare a a promuovere l'innovazione permette la diffusione di questa dell'innovazione di questa innovazione ma insomma dell'innovazione digitale in generale presso la popolazione presso le aziende e dall'altra però anche dirigerla eticamente quindi c'è sempre questo doppio scopo ma la diffusione della consapevolezza della cultura se vogliamo di questi temi è necessaria per entrambi gli obiettivi soltanto se i lavoratori saranno consapevoli delle opportunità dell'intelligenza artificiale cominceranno insomma ad abbracciare programmi di formazione le aziende insomma a loro volta possiamo sperare ad esempio come Europa come Italia di poter davvero ottenere i vantaggi della trasformazione digitale i vantaggi socio-economici e a loro volta i stessi lavoratori hanno bisogno di abbracciare queste innovazioni per poter costruire poter avere un futuro lavorativo oppure anche darle ai propri figli perché insomma come genitori possono conoscendo il cambiamento possono indirizzare il futuro scolastico dei propri figli verso lo studio di certe di certe materie al tempo stesso serve una conoscenza diffusa della materia per poterla dirigere per poterla dirigere eticamente io penso soprattutto al ruolo degli insegnanti o anche dei politici dei dirigenti d'azienda di chi sviluppa queste tecnologie by design dovrebbe essere nella loro attività la conoscenza dell'impatto delle loro azioni penso in questo caso in particolare agli sviluppatori di software perché solo in questa maniera è possibile pensare che si pongono il problema in origine delle conseguenze delle loro creazioni e insomma la cosiddetta AI literacy l'istruzione l'intelligenza artificiale è un tema che vedo sempre più popolare siamo ancora all'inizio il governo finlandese è stato pioniere con corsi verso la popolazione di cultura di base dell'intelligenza artificiale il governo italiano a dicembre ha anche cominciato questi corsi chiaramente siamo ancora all'inizio però mi sembra anche in letteratura che stia aumentando questa consapevolezza che è necessario anche con intervento governativo promuovere una conoscenza diffusa dell'intelligenza artificiale a modo di nuova educazione civica per formare i cittadini del presente futuro i lavoratori i cittadini e anche come dicevo prima questa è la precondizione per poter dirigere il cambiamento nella direzione giusta soltanto se i politici gli insegnanti della popolazione in senso generale conoscono l'impatto dell'intelligenza artificiale poi potranno esprimersi politicamente ad esempio per poi dirigere questo cambiamento in una direzione che sia più affine agli interessi collettivi ecco ma da questa considerazione deriva un'altra anche che dato che gli impatti sono così ad ampio raggio è necessario che questa AI literacy si sviluppi in modo multidisciplinare che è un po' quello che stiamo provando a fare già adesso però è quello che penso e auspico che le accademie faranno e vuol dire in altre parole è che per esempio nelle materie nelle facoltà tecniche si debba studiare di più l'impatto economico sociali delle tecnologie forse adesso lo si fa pochissimo questo probabilmente lo si dovrà fare molto di più e nelle materie umanistiche invece conoscere maggiormente il funzionamento e anche un po' l'impatto di queste tecnologie in modo tale che possa esprimersi il ruolo delle materie umanistiche diritto insomma sociologia filosofia economia esprimersi il ruolo di queste di queste materie per indirizzare di nuovo insomma il cambiamento verso verso una soluzione verso un esito positivo per un po' per tutti e questo approccio multidisciplinare alla materia è estremamente estremamente raro storicamente nel modo in cui l'accademia lavora ma anche il modo in cui effettivamente viene studiata la materia della tecnologia in tutte le materie della tecnologia nella letteratura nei libri un po' io e Guido Scorso abbiamo cercato abbiamo visto questa esigenza di colmare questa lacuna con un libro che abbia invece un approccio multidisciplinare appunto per rendere i dotti sugli impatti però comincio a vedere anche altri libri che vanno in questa in questa direzione ma se voi scrivete intelligenza artificiale su Amazon ad esempio noterete che la stragrande maggioranza dei libri è molto tecnica è molto guarda molto gli aspetti tecnici quindi per gli addetti ai lavori per chi vuole usare questa tecnologia in azienda per costruire sviluppare applicazioni per migliorare il profitto della propria azienda ci sono anche libri di volte e manager chiaramente però c'è pochissimo ancora purtroppo ma sempre di più lo vedo pochissimo ma sempre di più ci sono esempi di libri di studi che guardano alla materia con un approccio multidisciplinare che ci serve e serve probabilmente anche agli stessi studenti quindi insomma qui concludo il mio quadro che voleva ancora lo ripeto voleva insomma esortare a continuare a studiare con questo approccio come stiamo facendo adesso come state facendo voi in questo master questo grande e importante cambiamento Guido Scorza adesso poi se ci sei ancora spero tra di noi potresti potresti dire un po' la tua chiaramente gli aspetti giuridici sono più sono più il tuo pane se adesso diciamo a tutti sei un giurista che adesso è nell'autorità garante privacy grazie adesso il doppio ruolo del giurista che analizza la materia giuridicamente ma anche insomma anche quello dell'autorità che è un ruolo un pochino più fattivo nella nella vera conseguenza grazie grazie Ale io direi che dopo Alberto Gambino Stefano Quintarelli Alessandro Alessandro Longo più che un doppio ruolo se gioco con mezzo ruolo già dico già dico troppo soprattutto perché precede in realtà una serie di colleghi ed amici in molti casi che stimo moltissimo e che hanno molto di più di me sicuramente da dire d'altra parte un po' come nel libro Alessandro ha detto se non tutto quasi tutto o quanto sicuramente è sufficiente per per inquadrare l'esercizio che è veramente un esercizio divulgativo che muove dalla convinzione giusta o sbagliata poi immagino che gli interventi che seguono potranno aiutarci a capirla giusta o sbagliata che questa partita quella dell'impatto prima della votazione dell'impatto prima e della governance poi dell'intelligenza artificiale almeno secondo noi si vince solo ed esclusivamente se almeno i rudimenti dell'intelligenza artificiale diventano componenti della educazione di base di tutti i cittadini perché si andavanti ad applicazioni tecnologiche che sono probabilmente destinate ad essere più pervasive nel quotidiano delle persone rispetto a quanto non è accaduto con con internet per cui da questo punto di vista questa effettivamente è stata la scommessa alla base del alla base del libro arrivati alla n presentazione non so se si è più una cifra con un zero solo con due zeri accade naturalmente che gli autori si scambino i ruoli e facciano vicevenevolmente loro le cose che alla presentazione precedente hanno detto gli altri perché così è ed accade un rapporto autorale sintopico e io mi limito veramente a pochissime suggestioni e a un paio di provocazioni perché sono davvero curioso molto di più di sentire quello che hanno da dire i relatori che interverranno dopo di me piuttosto che non aggiungere elementi ai tanti che già ha condiviso Alessandro una è una prima suggestione immagino abbia riecheggiato purtroppo me lo sono per chiede scusa nelle parole magari introduttive di Alberto Gambino sicuramente in quelle di Stefano Quintarelli una è una preoccupazione che oggi dal punto di osservazione della garante privacy è più forte che prima è più forte di quanto non fosse nello scrivere il libro si sente sempre con più frequenza parlare soprattutto nell'universo politico ma penso banalmente al piano del recovery fund in questo momento di intelligenza artificiale in una prospettiva prevalentemente economica e di sviluppo industriale e come dire naturalmente non sarò io a negare che che questa sarà una scommessa assolutamente importante in questa dimensione ho però la sensazione molto netta non da macroepisodi ma da microepisodi osservati nel quotidiano delle vicende che rimbalzano anche procedimenti di fronte al garante che in realtà si stia perdendo di vista in maniera importante la circostanza che non ogni investimento in intelligenza artificiale produce destinato a produrre in maniera automatica verrebbe da dire algoritmica se gli algoritmi non fossero parte in causa in questo nostro ragionamento degli effetti positivi per i più detta in maniera diversa a me sembra che in molte delle riflessioni anche di policy che si stanno facendo manchi completamente all'appello il tema del rapporto tra l'intelligenza artificiale e i diritti fondamentali o se volete una valutazione di impatto circa la sostenibilità democratica di applicazioni di intelligenza artificiale delle quali sento parlare in maniera sempre più ricorrente un allarme in questa direzione lo ha lanciato e lo condivido in pieno nelle scorse settimane l'agenzia europea per i diritti fondamentali e quindi io credo che quello soprattutto ad un tavolo come quello di oggi in cui non mancano i giuristi con un'attenzione particolare e storica ai diritti della persona ecco quello deve naturalmente essere credo che debba essere sempre di più un terreno di riflessione davvero irrinunciabile perché altrimenti stiamo investendo in una direzione che non so dire se farà bene o male all'economia ma che rischia di far male alla società prima di tacermi le due provocazioni che vi anticipavo ma provocazioni veramente tali per raccogliere magari gli interventi che seguiranno poi qualche stimolo qualche stimolo ulteriore la prima viene dal tema della la prima viene dal tema della giustizia predittiva alla quale ha fatto riferimento anche poco fa Alessandro Longo una delle prime applicazioni nell'universo pubblico almeno negli Stati Uniti dell'intelligenza artificiale naturalmente è appunto quella in sede giurisdizionale il supporto supporto al giudice nel celebre caso del software dell'algoritmo di Compass supporto al giudice nel valutare il rischio di recidiva di un di un di un imputato e quindi su quella base quanto è opportuno che magari anche in attesa della sentenza definitiva sia in galera o sottoposto ad altra misura restrittiva della 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 libertà ecco qui la provocazione è diciamo che tra di noi ci si possa ma naturalmente non è un dato scontato ma è semplicemente un'ipotesi trovare tutti d'accordo nel dire che sino a quando non abbiamo sufficienti certezze in relazione al fatto che il margine di bias dei sistemi di intelligenza artificiale è tollerabile tendenzialmente sarebbe opportuno che la intelligenza artificiale in questa forma di applicazione predittiva alla giustizia non entrasse in tribunale ripeto è semplicemente un'ipotesi perché molti di noi potrebbero dissentire da questa posizione dire in ogni caso non rispetto all'uomo ideale giudice ma rispetto all'uomo imperfetto anch'esso giudice può produrre comunque un risultato migliore ma la provocazione è facciamo finta quindi che questi strumenti di giustizia predittiva in tribunale non entrino e che quindi un giudice nel decidere se l'imputato di un reato grave a piacere ma di violenza resta a piede libero ma questi strumenti di intelligenza artificiale che sul mercato ormai esistono ipotizziamo gli utilizzati da un grande giornale che nella sostanza rifà il processo o rifà quella parte del processo relativa all'applicazione o non applicazione di una misura cautelare sulla base di dati dei quali dispone arriva la conclusione che quello imputato se lasciato a piede libero tornerà a delinquere in uno spazio temporale limitato e con conseguenze gravi e ipotizziamo che a seguito del giudizio simulato pubblico da parte del grande giornale di turno accada ciò che l'algoritmo utilizzato da quel grande giornale di turno ha previsto che quindi quell'imputato lasciato a piede libero in attesa di sentenza torni a delinquere con conseguenze magari più gravi rispetto a quelle del reato per il quale era processo ora io quello che mi chiedo è l'opinione pubblica come reagirebbe di fronte a questo tipo di accadimento e per quanto tempo un governo un parlamento un decisore pubblico nel suo complesso a seconda dei casi dei paesi e degli ordinamenti riuscirebbe a sostenere che nonostante in quel caso sia andata così democrazia vuole che un algoritmo forse viziato non entri in tribunale prima provocazione seconda provocazione cambiando completamente lo scenario dalle applicazioni di intelligenza artificiale applicate al pubblico passando alle applicazioni di intelligenza artificiale applicate al privato il GDPR da questo punto di vista il regolamento generale sulla privacy da questo punto di vista in qualche modo è pioniere perché forse è una delle prime norme delle più avanzate nelle quali ci si fa carico di provare a governare in maniera assolutamente embrionale questo fenomeno almeno con riferimento alle decisioni automatizzate che producano effetti giuridici rilevanti sulla vita delle persone si stabilisce un principio sul quale credo un po' come quello di prima ma forse più di quello di prima tra di noi ci si può trovare tutti facilmente d'accordo e cioè che tendenzialmente la decisione totalmente automatizzata è vietata e che a prescindere da questa circostanza anche laddove avvessa sussiste sempre il diritto dell'interessato di esigere di esigere la ripetizione di quella decisione automatizzata da parte di un essere umano e allora anche qui la provocazione è c'è una società di credito al consumo ce ne sarà più di una certamente diciamo ce n'è una come esempio che utilizza come già oggi accade un sistema automatizzato o algoritmico per valutare l'opportunità o non opportunità di concedere un finanziamento a Tizio che chiede per l'appunto un finanziamento e l'algoritmo in questione boccia la richiesta di finanziamento ritenendo che Tizio ha elaborato il suo profilo ha matchato questo profilo confrontato questo profilo in una dimensione big data è esattamente il profilo di chi chiede un finanziamento essendo poi incapace di restituirlo a quel punto il Tizio in questione chiede alla società di credito al consumo e per essa evidentemente al suo management di ripetere in forma umana quel tipo di decisione quindi di valutare da capo se effettivamente ha diritto o non ha diritto al suo finanziamento ecco quello che mi chiedo e che chiedo evidentemente in termini di provocazione a chi ci ascolta ma poi a chi prenderà la parola tra qualche istante ma possiamo davvero pensare che ci sia un manager dentro una società che risponde naturalmente al suo capo e poi al consiglio d'amministrazione e poi in ultima analisi agli azionisti e al mercato che di fronte ad una decisione negativa rispetto alla concessione di un finanziamento elaborato da un algoritmo più o meno sofisticato almeno per il suo apprezzamento della tecnologia e che ha una capacità di calcolo e l'accesso ad una quantità di dati che non potrà elaborare nel corso della sua intera vita nel ripetere quell'accertamento arrivi a conclusione diversa e assuma la responsabilità di contraddire l'algoritmo perché in teoria la risposta naturalmente positiva in pratica a me pare destinata a essere salvo eccezioni virtuose sempre negativa cioè un progressivo appiattimento delle decisioni umane sulle decisioni algoritmiche per ragioni psicologiche diverse e giuridiche essenzialmente legate alla paura di assumere una responsabilità personale in presenza nel ripetere una valutazione sulla base di minori capacità di calcolo e dati rispetto a quelle rispetto a quelli di cui è capace appunto l'algoritmo e il sistema di riferimento ecco io non aggiungo neppure una parola una parola in più resto qui curioso davvero di ascoltare gli interventi di chi segue poi naturalmente le conclusioni del professor Gambino grazie guido effettivamente questo è un punto che già un pochino avevamo sottolineato nel libro ma si premergerà ma che l'intelligenza artificiale verrà proposta ad aziende anche sistemi anche sistemi di welfare e insomma la società ecco fino a che punto potremo essere in grado di rinunciare come singoli o anche come gruppi ai vantaggi proposti promessi dall'intelligenza artificiale pur avendo in mente i rischi possibili ecco quello che mi dici tu mi fa pensare soprattutto al manager che dovrebbe rinunciare al vantaggio competitivo dell'intelligenza artificiale immaginando che ci possono essere delle conseguenze negative esiste questo manager se esiste lo vorrei sposare dovremmo fare con una battuta perché effettivamente siamo forse in una società che non permette questo lusso della scelta allora potrei dire da filosofo che il problema algoritmico è a monte cioè che la società è già su certi binari che algoritmici deterministici che vanno a promuovere in modo troppo marcato soltanto le esigenze di produttività e di efficienza e allora forse prima di porci il problema di come dobbiamo dirigere l'intelligenza artificiale dovremmo porci il problema di come cambiare il modello economico un po' questo lo dice lo stesso Frank Pasquale e anche il World Economic Forum dicendo che forse questo grande cambiamento è l'opportunità di ripensare il modello alla base di sviare da logiche puramente e propriamente efficientiste che hanno il profitto come unico obiettivo perché altrimenti raccoglieremmo solo le conseguenze negative dell'intelligenza artificiale che sarebbe così farebbe anche da acceleratore a certi vizi di fondo del sistema Guido se puoi restare con noi quanto puoi poi evidentemente ti stacchi se è altro comunque anche perché ci piacerebbe avere altre tue eventualmente dopo adesso era previsto un po' certieri mi sa che non potrà esserci a meno che non si riesca a liberare da una milione urgente che è stata fissata dal suo rettore insomma come sapete il rettore è un po' il dio quindi non si può non si poteva evitare e allora cederei la parola a Franco Pizzetti che è un moltissimo giurista e tra l'altro il suo ultimo libro adesso con Giappichelli è uscito e sa per uscire nei prossimi giorni ne pubblicheremo anche una recensione di Antonello Toro su agendadigitale.eu quindi l'ultimo ex l'ultimo ex garante che fa una recensione del libro all'ex garante precedente e ci sembrava un buon momento insomma di riflessione e ora Franco ce ne regalerà un altro un buon momento di riflessione perché lui è stato uno dei primi già negli anni scorsi a studiare l'impatto giuridico della materia qui in esame ecco prego ti lascio Franco i tuoi 15 minuti come anche gli altri saranno 15 per tutti torino avanti grazie grazie anche di avermi invitato questa occasione di riflessione collettiva io credo che l'intelligenza artificiale è tema estremamente scivoloso e anche perché è etichettato con una dizione evocativa emozionale il che non è affatto casuale non viene solo dalla famosa saggio di Turing poi il costruttore della famosa macchina che si dice abbia decodificato il codice di Ebola altri ritengono che fosse già stato decodificato con mezzi più tradizionali in particolare dai polacchi ma insomma il tema la definizione di intelligenza artificiale che poi si deve a un seminario organizzato nel Delaware qualche anno dopo la fine della seconda guerra mondiale è suggestivo e io credo che non dobbiamo rinunciare a dedicare qualche minuto a esplorare questa suggestione sia perché è utilizzato sia quali sono le implicazioni culturali e emozionali che sottostanno all'uso di questo termine in realtà dietro l'uso di questo termine c'è un dibattito filosofico che ha percorso già la fine del Settecento e larghissima parte dell'Ottocento e che si è accompagnato allo sviluppo dell'illuminismo e dello scientismo che persegue e talvolta dichiarandolo talvolta celevelandolo l'ideale dell'uomo macchina e cioè dell'uomo che al di là di essere apparentemente una persona diversa dalle macchine è in realtà lui stesso una macchina e il suo modo di capire di analizzare di intendere di comunicare di avere relazioni sociali proprio per questo sarebbe riproducibile da macchine noi in larghissima parte dell'esperienza umana perseguendo questa impostazione ripeto talvolta dichiarata talvolta no abbiamo sostituito in gran parte il lavoro fisico fatto dagli esseri umani col lavoro fatto da macchine noi non dobbiamo mai dimenticare che la robotica è innanzitutto questa e che tutti noi siamo nati avendo già in casa dei robot o comunque sono arrivati quando eravamo ancora molto piccoli la lavatrice è un robot il forno è un robot la stiratrice automatica è un robot noi siamo circondati da macchine che hanno sviluppato la capacità di fare come macchine attività fatte precedentemente dagli esseri umani l'abbiamo chiamata robotica e infatti dei film di fantascienza i romani di fantascienza alle famose leggi di Asimov ne abbiamo sempre avuto timore e abbiamo in ogni modo cercato di esplorare il campo della robotica mettendo i piedi uno dopo l'altro con lentezza e sospetta cerchiamo di non perdere questa capacità di riflessione dietro il mito dell'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale soprattutto coltivata nel clima per esempio della corte di Praga aveva lo scopo di produrre dei robot che potessero sostituirsi agli esseri umani o peggio o meglio addirittura di considerare l'uomo una macchina e per questo riproducibile attraverso le macchine il robot antropomorfo cioè il tentativo di fare della macchina sempre più un operatore che assomiglia a un uomo fino a essere identificabile in un uomo e dietro questo approccio che noi abbiamo l'alchimia settecentesca basta andare anche a Napoli lo si vede nel museo del Duomo se ricordo bene lo scheletro umano i primi modelli anatomici che ripercorrono le vene tutti i condotti dell'anatomia umana cercando di presentare l'essere umano come una macchina questo lo dico perché è molto importante guai se non si capisce che anche questo è in gioco e poi ovviamente questo è un filone culturale filosofico che è antagonista per sua stessa origine all'idea della divinità della creazione umana come creazione di un dio se l'uomo è una macchina addirittura l'uomo può ricreare l'uomo e di qui poi tutta la pseudo fantascienza ormai scienza contemporanea fino all'idea di riuscire a traslare la mente umana in un domani in una raccolta di dati conservati in attesa di poterla tra visare versare dentro una macchina robotica che riproduca il modo di ragionare di pensare e di sentire dell'essere umano che è il clone dell'intelligenza artificiale applicata a quella macchina guardate che non dico cose così strane e cercherei sommessamente andando oltre il mio orto di giurista di richiamare fortemente la vostra attenzione su questo tema perché non è un tema del passato che noi possiamo studiare appunto andando al museo napoletano che ho citato o a quello di Praga o ricordare sempre il famoso Golem che però non a caso viene ripreso nella tradizione praghese della corte di Rodolfo cioè il mitico essere umano creato dalla lettura secondo un certo ordine delle parole sacre e delle lettere sacre dell'ebraismo ma è un fenomeno che percorre anche l'attualità ci sono pensieri solidi pervasivi non così evidenti ma molto presenti mi riferisco per esempio al transumanesimo che percorrono anche la letteratura che noi chiameremmo underground ma non è underground che pure è acquistabilissima nelle nostre librerie e per andare più vicino alle cose attuali vorrei citare Attali che come tutti sappiamo è fra le persone che hanno concorso a influire sulla formazione dell'attuale presidente Macron che nella sua beve storia del futuro ricostruisce la storia umana anche tenendo presente l'arricchimento che la tecnica dà alle capacità dell'uomo e la capacità dell'uomo di produrre la tecnica e poi per citare cose ancora più note il famoso Human Plus di Atari che ha avuto tanto successo due anni fa e che appunto è stata la prima esposizione con grande successo letterario di queste teorie dunque attenzione a muoverci con capacità di comprendere e anche da questo punto di vista attenzione a seguire con troppo entusiasmo l'approccio dell'etica all'intelligenza artificiale perché l'approccio dell'etica all'intelligenza artificiale implica l'attivazione dell'intelligenza artificiale e quindi la regolazione etico morale di buon comportamento già di uomini macchine o di macchine uomo mentre noi prima ancora di affrontare i temi dell'etica dell'intelligenza artificiale dobbiamo cercare di capire qual è la sua caratteristica quali sono le sue caratteristiche e quali sono le sue possibili applicazioni le caratteristiche sono state dette in modo molto chiaro da Quintarelli sono tecniche che consentono di utilizzare enormi quantità di dati e dati fra loro molto variabili in tempo estremamente rapido e quindi si basano sulle famose 3V variabilità quantità dei dati e velocità per fare delle analisi secondo metodi prevalentemente statistici relativamente a ciò che avviene per predire ciò che potrà avvenire applicato invece al robot sono programmi alla macchina il linguaggio macchina perché il robot fornisca servizi che gli vengono richiesti secondo le modalità previste dal programma della macchina quindi mentre oggi vi basta mettere 50 centesimi e col vostro ditino schiacciare per dire alla macchina che tipo di caffè volete e se lo volete macchiato o lo volete cappuccino in un domani la macchina meglio costruita e dotata di maggiori capacità attraverso sensori che per esempio possano riconoscervi potrebbe già sapere qual è la vostra opzione e quindi invece di aspettare che voi digitiate potrebbe dirgli buongiorno professor Pizzetti la vedo bene stamani il solito cappuccino che è quello che fa il barista quindi attenzione che dietro il dibattito sull'intelligenza artificiale c'è anche questa tensione che non è di per sé condannabile ma la conosciuta poi c'è anche dei riflessi politici ma possiamo per il momento accantonare va conosciuta e va capita perché il giurista è alla fine soltanto una scienza sociale di regolazione della società e se la società cambia deve cambiare anche la regolazione ma prima di tutto deve capire che tipo di società è chiamato a regolare e quali sono le tendenze di questa società allora se tutto questo lo teniamo presente possiamo capire forse un po' meglio qual è la discussione in atto ovviamente l'idea che l'uomo non sia altro che una macchina e che la macchina possa riprodurre l'essere umano ha una serie di conseguenze molto rilevanti e soprattutto costringe l'uomo nella logica della macchina e quindi nella logica della sua capacità nel non poter uscire fuori da se stesso per decidere col suo libero arbitrio come comportarsi cosa esplorare quali percorsi seguire per sviluppare la sua civiltà quindi attenzione a questi aspetti che sono molto importanti che naturalmente detti in questo modo stamani così come sono state dette molte altre cose possono apparire un po' come a cui bloni nel cielo o palloni gonfiati o mongolfiere ma invece sono cose che hanno una storia già alle nostre spalle aggiungo che poi in particolare e lo dico non in termini religiosi ma per consapevolezza la nostra civiltà giudaico-cristiana si è misurata fin dalle origini con questi temi e noi non dobbiamo dimenticare che la nostra civiltà indipendentemente adesso dalla posizione religiosa di ciascuno di noi è basata sul libero arbitrio sulla libertà intesa come capacità dell'essere umano di dannarsi se vuole e nella Bibbia questo c'è nella Genesi Dio onnisciente sa benissimo che Eva mangerà la mela proibita e ciò nonostante dà questo comandamento e sfida e sfida gli esseri umani a riuscire a rispettare questo comandamento e quando gli esseri umani lo violano se rileggete la passo della Genesi è interessantissimo il Signore e Dio comincia a camminare per il giardino chiama Adamo ed Eva che rendendosi conto di aver violato la regola che il Signore aveva posto a loro si nascondono e cominciano a provare vergogna uno dell'altro tanto che si fanno cinture di foglie e Dio sa benissimo dove sono ma per qualche istante per qualche minuto gioca al gatto col topo e li chiama li invoca li invita a rendersi visibili fino a che naturalmente pronuncia quella terribile condanna cacciandoli dal giardino terrestre e nel momento in cui li caccia dal giardino terrestre come sapete gli regala gli dota di cinture di cuoio cioè di capacità di coprirsi l'uno all'altro perché avendo perso l'innocenza ormai provano la vergogna delle loro differenze sessuali questi passi della Genesi sono estremamente interessanti perché ci dicono moltissimo e ci dicono in sostanza che la nostra cultura lasciamo perdere la religione è basata sul libero arbitrio sulla possibilità per l'uomo di fare una scelta che addirittura lo porta e lui lo sa perché gli è stato detto alla dannazione e ciò nonostante Dio onnisciente non gli impedisce di dannarsi ora l'intelligenza artificiale lasciamo perdere le tecniche statistiche predittive abbiamo capito benissimo che non è altro che l'applicazione di questo tipo di analisi dei dati ha invece un obiettivo opposto rivedetevi il film Minority Report io prevedo che tu potresti essere colpevole di un reato grave e quindi avendo questa capacità previsionale posso impedirti di commetterlo tanto che Minority Report come ricorderete si incentra intorno a una pattuglia di polizia che dice a un cittadino lei è sotto controllo perché abbiamo ragione di ritenere che commetterà un reato grave cosa che si è verificata si è già verificata negli Stati Uniti a Washington si è verificato che una pattuglia della polizia ha avvisato un cittadino che sarebbe stato tenuto sotto controllo particolare per un certo periodo di tempo perché le analisi predittive degli strumenti a loro disposizione facevano ritenere possibile che lui sarebbe stato protagonista di un reato poi questo è vero non è vero è letteratura giornalistica che imita la fantascienza latte alla pesca ma noi sappiamo che è possibilissimo oggi proprio con le tecniche di intelligenza artificiale allora il tema numero uno non è solo l'etica dell'intelligenza artificiale ma il rapporto fra la macchina e l'uomo fra l'uomo e queste tecnologie di analisi predittive perché è in gioco la libertà fondamentale dell'essere umano che è il libero arbitrio e quindi anche la possibilità di peccare Dio non aveva bisogno dell'intelligenza artificiale per i credenti eppure pur prevedendo tutto perché onnisciente non ha mai impedito l'uomo di dannarsi e lì c'è la famosa diatriba fra Lutero scusate fra Tommaso e Sant'Agostino che poi verrà risolto con quel aforisma di Sant'Omaso Dio sa che tu peccherai non e tu peccherai non perché Dio lo sa ma perché tu sceglierai di peccare Dio lo sa perché sa che scelta farai quindi non è quello che Dio sa che ti vincola a scegliere di peccare ma Dio lo sa perché sa che tu farai quella scelta e quindi questo supera l'agostinismo che però ritorna con Lutero e sappiamo come è andata a finire che cosa si è sviluppato allora questo è lo sfondo e non è uno sfondo a cui possiamo rinunciare sarebbe follia rinunciare a queste considerazioni perché noi di fronte a una nuova tecnologia dobbiamo cercare di capirne tutte le implicazioni non solo quelle tecnologiche o giuridiche ma quelle filosofiche quelle antropologiche quelle che incidono sull'essere umano è inutile che continuiamo a parlare di diritti fondamentali e di libertà 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 e non ragioniamo per esempio sugli effetti che può avere una tecnologia quella di cui stiamo discutendo stamattina il che non vuol dire rinunciare a priori di fidare come del diavolo dell'intelligenza artificiale ma cercare di mettere i piedi più per terra con maggiore consapevolezza io credo che c'è una cosa a cui l'uomo non può rinunciare e anche qui il GDPR che è una eccezionale normativa di data shines prima ancora che di protezione del diritto fondamentale della privacy così come ci è stato insegnato e abbiamo imparato dai primi grandi contributi di Rodotà è un grande libro di data shines perché il GDPR è stato studiato da persone che avevano già consapevolezza mentre chi fece la direttiva 95-46 viveva in un mondo in cui non esisteva ancora l'uso civile di internet e quindi non aveva la dimensione dei problemi che sarebbero arrivati chi ha scritto il GDPR conosceva benissimo la società digitale e ha adottato una regolazione per la società che verrà più ancora che per la società che c'è e quella norma che è stata già richiamata sia da longo che da scorsa ma che è un pilastro del GDPR ciascuno ha diritto che se è un trattamento automatizzato dei suoi dati ha delle conseguenze che lo riguardano ha diritto a conoscere come la macchina ragiona quindi qual è il funzionamento della macchina che ha condotto a quella decisione e soprattutto ha diritto a chiedere un intervento umano e quindi quella norma che è l'articolo 28 è veramente un pilastro filosofico giuridico di data science perché dice quello che dice Odissea nello spazio che è un film che dovrebbe essere rivisto molte e molte volte perché c'è quasi tutto quello di cui stiamo discutendo in quel film ricordate che quando il computer di bordo che è una macchina di intelligenza artificiale comincia ad adottare delle decisioni dannose per gli esseri umani che sono si sono autoibernati nelle capsule e quindi non sono più in grado di reagire per fortuna due astronauti sono ancora nella pienezza della loro consapevolezza e cercano di intervenire sul computer chiamato Hall e c'è il dialogo fra l'astronauta e Hall fino a che Hall riesce anche a leggere il labiale con cui due astronauti si parlano avendo capito che la macchina li sta ascoltando quindi cominciano a parlare con movimenti solo labiali ma la macchina legge anche le loro labbra e quindi capisce che gli esseri umani stanno decidendo contro di lei e si corazza in qualche modo e quindi diventa non più influenzabile dall'astronauta che parla la macchina ma la macchina non lo ascolta e gli dice io devo seguire la macchina io devo seguire il mio programma non mi interessa cosa stai dicendo e allora c'è il famoso cacciavite cioè l'astronauta grazie al cacciavite comincia a disattivare le memorie della macchina che sono essendo Odissea nello Spazio un film degli anni 60 ancora i grossi armadi dell'IBM e quindi comincia a staccarne uno dopo l'altro e la memoria della macchina pian piano sfuma la macchina muore potremmo dire e gli astronauti sono salvi ma perché hanno il cacciavite perché l'intervento umano può impedire gli effetti finali dell'intelligenza artificiale che guida l'astronauta io credo che quel film anche in tante altre parti intendiamoci compreso nella finale quando l'astronauta ormai diventato vecchio entra nella stanza e c'è un bambino neonato sul letto che è la nuova umanità in sostanza andrebbe rivisto e qualunque educazione digitale dovrebbe partire da un commento intelligente di Odissea nello Spazio ma il cacciavite di Ale è fondamentale allora noi oggi dobbiamo dire questo che la norma basica la più importante del GDPR è l'articolo 28 e che è fondamentale che si mantenga sempre la possibilità di conoscere come la macchina opera e ragione e quindi di fare un'analisi sull'analisi predittiva che fa la macchina e di decidere poi se attivare o disattivare quella macchina perché non è detto che la macchina faccia sempre scelte o comunque il suo intervento sia positivo per l'umanità nel suo complesso perché c'è in gioco la dote più importante ciò che distingue l'uomo dagli altri esseri il libero arbitrio e ripeto anche la possibilità di peccare arrivo a dire la possibilità di dannarsi questo è il mio approccio quindi io considero l'intelligenza artificiale una tecnologia preziosa alla quale sarebbe sciocco rinunciare che dobbiamo esplorare ma non dobbiamo affrontare con l'atteggiamento etico l'etica dell'intelligenza artificiale ma che vuol dire l'etica può essere la base della normazione giuridica sull'intelligenza artificiale c'è moltissima etica dietro quella norma del GDPR che fu molto discussa e che non è stata scritta così senza consapevolezza tanto che proprio su quella norma i sostenitori dell'intelligenza artificiale più appuntano le loro perplessità e naturalmente poi sapete che è una norma che mette in discussione la proprietà intellettuale mette in discussione il diritto alla riservatezza sulla produzione dell'intellettuale dell'algoritmo questi sono i temi che io credo dobbiamo cercare di sviluppare poi seguono le norme io per esempio sono in principio ma al momento lo stato attuale delle nostre conoscenze molto contrario all'intelligenza artificiale applicata alla giustizia perché è evidente che significa congelare lo sviluppo del ragionamento umano la giustizia l'attività giurisprudenziale è fondamentale proprio perché le leggi sono la regolazione il programma della società umana e l'attuazione di queste leggi è fondamentale per il loro sviluppo della regolazione della società umana è lo stesso motivo per cui in questo libro che gentilmente Longo ha citato che è appena uscito che si intitola la protezione dei dati personali dal GDPR tra il GDPR e il nuovo codice italiano novellato dove c'è anche il tema dei minori che oggi è tanto all'ordine del giorno io dico che le autorità hanno un ruolo nuovo perché non devono più essere puri burocrati applicatori delle norme di tutela della protezione dei dati personali ma devono essere autorità capaci di elaborare nel tempo il modo di applicare queste norme per stare al passo con l'evoluzione tecnologica e anche l'European Data Protection Board che ha un ruolo molto più rilevante di quello che aveva l'antico Working Party 29 e la leading authority e i meccanismi di coordinamento e coerenza sono nel quadro di una regolazione che sa di aver bisogno di applicatori che la sappiano adattare man mano le esigenze dello sviluppo dell'economia digitale il GDPR è stato scritto da chi sapeva che stava arrivando l'economia digitale e ha preparato una normativa adatta a guidare i processi dentro questo nuovo mondo e siccome l'Unione Europea forse con una presunzione che può essere persino al di sopra delle sue capacità vuole essere un global player e sta investendo moltissimo nell'economia digitale come dimostra il recovery fund e come è richiesto agli stati di fare nell'elaborare e approvare i recovery plan nazionali punta moltissimo a diventare un competitore globale nell'economia digitale addirittura con la sua regolazione ad essere leader dell'economia digitale avete nella indicazione della Van der Leyen ma l'avevate già nell'indicazione della commissione Juncker una grande attenzione all'intelligenza artificiale l'Unione Europea tutto vuole meno che rinunciare all'intelligenza artificiale è ovvio perché l'intelligenza artificiale oggi è uno strumento irrinunciabile per la competizione globale nell'epoca digitale però chi ha scritto il GDPR era consapevole dei problemi che oggi molto malamente ho richiamato è quella famosa norma che tutti citiamo e citiamo anche perché in qualche modo la capiamo e non la capiamo è centrale infine dico a lungo certo il caso della crisi di governo basata sull'uso dell'intelligenza artificiale è interessante ma basta pensare alla nostra pandemia basta pensare al caso della discussione in atto fra Lombardia e governo centrale ma ci rendiamo conto che noi abbiamo affrontato la pandemia con una quotidiana tempesta di comunicativa sui dati di governanti sì sto per chiudere e non avevamo un protocollo nazionale unitario di raccolta e trattamento dei dati perché questo è ciò che sta emergendo nel dibattito fra Lombardia e governo centrale noi abbiamo raccolto i dati lasciando che ogni regione ogni struttura sanitario regionale operasse senza un protocollo comune quindi c'è moltissima attività di data science da fare e prima di applicare in tutte le sue potenzialità l'intelligenza artificiale dobbiamo avere delle competenze diffuse di data science molto superiori a quelle che oggi sono caratteristica del sistema italiano e dobbiamo poi tenere presente tutte le complessità che sulla società può avere lo sviluppo che è inevitabile ed è necessario di sistemi di intelligenza artificiale che sostengono supportino e consolido nelle nostre economie grazie grazie franco effettivamente effettivamente i temi che sollevi sono un po' anche al centro della mia ricerca effettivamente ho dimenticato di dire che tu hai fatto la preparazione del libro e anche che il mio background è filosofico quindi laddove gli studi quindi laddove parli di massimo rischio per il nostro libero arbitrio tocchi un tema a me molto caro e anche caro tra l'altro a un ricercatore e a uno studioso storico che hai citato tu Harari uno storico Yuval Noah Harari che è uno storico dell'israeliano non riuscivo a dire la parola e lui effettivamente sottolinea le stesse cose che dici tu cioè che se ci abituiamo a far decidere tutta l'intelligenza artificiale alla macchina che succede impoverisce il nostro libero arbitrio perdiamo una capacità forse riduciamo almeno decisionale quindi a livello individuale ma è a livello collettivo che succede che ci priviamo della prerogativa umana di poter progredire progredire con l'innovazione e anche di poter sbagliare e anche di poter sbagliare beh sì diciamo che sbaglierebbe forse solo la macchina con gli errori passati e su questi temi io ho voluto Ivana Bartoletti qui perché il suo libro è di Deloitte e anche collabora con l'Oxford University e quindi insomma è centrata nel Regno Unito è basata nel Regno Unito Ivana ha pubblicato un libro recentemente che molto affronta i temi i temi della discriminazione sociale che sono al centro dell'utilizzo dei dati da parte delle macchine quindi anche te Ivana a 15 minuti se puoi raccontare lo stato delle tue ricerche certo beh prima di tutto grazie a voi per questo invito che ho accettato molto volentieri volevo fare solo alcune riflessioni appunti soprattutto sollecitata tantissimo da Franco Pizzetti e ovviamente da da tutti i relatori allora io dunque volevo partire da una riflessione Franco Pizzetti dice giustamente dice qui al cuore c'è il problema della macchina del rapporto uomo-macchina ecco io io sono d'accordo e credo che sia giusto partire partire da che sia giusto partire da lì e in questo senso capisco anche la critica che viene fatta non solo da lui ma da molti in questo periodo al cosiddetto tema dell'etica in realtà però io voglio dire una cosa secondo me quando si parla dell'intelligenza artificiale secondo me dobbiamo partire da una considerazione e cioè che l'intelligenza artificiale è molto di più di una tecnologia e sarebbe sbagliato partare di intelligenza artificiale e definirla semplicemente dal punto di vista tecnologico l'intelligenza artificiale ha a che fare con molte altre dimensioni ha a che fare in primo luogo con la dimensione del potere della dimensione dell'accumulazione dei dati io lavoro con l'università di Oxford come visiting fellow sui temi dell'international data sharing sul trasferimento dei dati a livello globale sulla data localizzazione la protezione dei dati contro il protezionismo e questa dimensione che l'intelligenza artificiale secondo me ha molto più a che fare con la dimensione di potere che è solo appunto la dimensione tecnologica sarebbe secondo me sbagliato ridurre l'intelligenza artificiale solo esclusivamente a una dimensione tecnologica dico questo perché quando discutiamo di intelligenza artificiale ora nel 2021 noi partiamo ragioniamo di una dimensione che si è sedimentata negli anni il processo per esempio di datafication il fatto che tutto venga e soprattutto negli ultimi anni ogni singola cosa che facciamo ogni singolo fenomeno sociale morale ogni singola cosa venga poi ridotta a dato questo è un fenomeno che viene ben prima dell'intelligenza artificiale e che è un fenomeno negli anni su cui si costruisce la risposta anche la risposta alla pandemia che abbiamo visto negli ultimi anni il processo di identification che pone poi rischi alla dimensione della privacy in generale la sacralizzazione del dato che secondo me è un elemento molto pericoloso e molto rischioso perché c'è veramente di poco di neutro nel dato l'idea che noi dobbiamo fare riferimento al dato alla collezione dei dati all'analisi del dato per avere un'immagine della società e addirittura per informarle le decisioni di policy che prendiamo come società ecco io lì vedo un rischio enorme che sì possiamo collegarlo all'intelligenza artificiale ma in realtà è il trend su cui si è costruita e si è mossa la nostra società negli ultimi decenni intorno a questo concetto che io nel mio libro definisco la sacralità del dato che secondo me va indiscutibilmente inevitabilmente messo in discussione l'idea che ci sia qualcosa di così powerful che abbia questo grosso potere nel dato e così com'è perché in realtà come è stato definito prima i dati sono lo specchio della società per com'è compreso compreso gli elementi di gerarchia sociale di disuguaglianza che sono stati costruiti nei decenni dei secoli precedenti ma c'è un problema molto serio secondo me intorno alla sacralità del dato che poi si somma si somma al tema dell'ubiquità il fatto che appunto questa collezione dei dati avvenga in ogni elemento della nostra vita tra appunto a casa con le macchine e i frigoriferi smart quando entriamo in macchina fino a luoghi di lavoro ovviamente quando entriamo nei mezzi pubblici l'altro elemento che secondo me c'è stato negli ultimi anni è l'elemento del dato inferenziale dell'inferential data il fatto che sempre più cominciamo a dedurre informazioni che sono molto sensibili semplicemente perché utilizziamo un'analisi che veniva definito prima predittiva o semplicemente o da dati che non sono sensibili per nulla o che sono allora per esempio il fatto che venga il fatto per esempio che anche in maniera molto scientificamente dubbia possiamo riconoscere se qualcuno abbia un problema mentale un problema fisico dal modo in cui si fa una certa cosa dalla velocità in cui riesce a type sulla tastiera o dal modo in cui cammina perché sono informazioni che reperiamo per strada ecco tutta questa nuova tutto questo inferential data è stato un problema una dimensione che ci troviamo davanti l'ultima dimensione secondo me che ci troviamo davanti oltre alla datafication l'ubiquità è il fatto secondo me molto molto complicato della potenza di queste macchine torno tra un attimo alla questione della potenza di queste macchine alla potenza di questa macchina in grado di fare cose che sono veramente rischiose e pericolose per la nostra società allora noi facciamo bene essere qua a discutere di un futuro ipotetico della robotica in cui la macchina possa addirittura prendere il sopravvento sull'uomo perché è in grado poi di diventare un soggetto a sé stante in realtà però secondo me il problema che ci troviamo davanti è che noi ci troviamo in presenza di strumenti che sono pericolosi ad oggi come per esempio l'utilizzo dei dati e la capacità degli algoritmi di analizzare quantità enormi di dati e poi produrre per esempio quello che si chiama il behavioral advertising cioè l'abilità poi di andare a fare micro-targeting di un individuo particolare basato sulla sua storia sui siti internet che visita ora finché si tratta di un annuncio per un paio di scarpe questa cosa mi può andare anche bene ma se poi diventa che ogni individuo viene esposto a una realtà diversa perché la sua perché gli algoritmi hanno questa funzione editoriale questa funzione di gateway sulla realtà in grado di presentare a ognuno di noi una storia una realtà diversa quello che poi diventa veramente messo in discussione è la funzione stessa della democrazia perché se le notizie a cui noi veniamo esposti sono diverse per ognuno ovviamente poi la base comune su cui noi poi discutiamo viene poi a cedere questa è una cosa che si ha a che fare con l'intelligenza artificiale ma badate bene qui si tratta qui si tratta di un processo di dataification un processo di accumulazione dei dati un processo di raffinamento dei meccanismi algoritmici di poter andare a fare il targeting dell'individuo che si è costruito negli ultimi anni in un stato selvaggio del wild west dell'architettura del nostro mondo digitale che non è stato in grado al momento giusto soprattutto mi riferisco a quello che si chiama real time bidding process quello che si chiama l'architettura del micro targeting che appunto non è stato che ancora adesso facciamo enorme difficoltà a mettere sotto controllo perché dico questo perché io ho una preoccupazione che è la preoccupazione che noi quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di robotica parliamo di di cose che possono essere lontane nel tempo e che le grandi PR macchine di PR delle compagnie soprattutto della Silicon Valley ci presentano come imminenti come se la macchina fosse lì pronta a darci quel futuro che è meraviglioso dove noi stiamo seduti davanti alla piscina e le macchine fanno il lavoro per noi la realtà secondo me va presa con molta più attenzione che è legata al fatto di quello che le macchine possono fare adesso di quello che la macchina l'algoritmo per il target online per la disinformazione quello che è in grado di fare adesso e in questo momento senza pensare a realtà futuriste che secondo me sono ancora lontane dalla situazione in questo quadro io mi permetto di fare due o tre considerazioni legate al panorama legislativo su questo e ai limiti che io vedo e io uso il panorama della privacy con una concezione probabilmente diversa cioè nel senso io sono una che una persona che distingue molto privacy data protection ma che in particolare credo che ci sia molto bisogno di ridefinire un concetto di privacy basata sull'autonomia individuale probabilmente anche soprattutto per l'inferenza algoritmica allora la GDPR ha ragione Pizzetti la GDPR è una legge importante su questo però secondo me ci sono degli elementi che vanno regolamentati e che sfuggono a tutto questo il primo secondo me è l'elemento della fairness allora sulla fairness noi facciamo sempre riferimento al dato storico però anche lì è limitante perché il dato storico è un problema ma non è l'unico problema da cui emerge la fairness la decisione non fair ci sono io lavoro ho imparato a fare coding tardi a 40 anni per capire veramente come funzionano gli algoritmi per riuscire a creare un po' un ponte secondo me tra la computazione e la legge per riuscire a cercare di parlare un linguaggio insieme agli sviluppatori ci sono moltissime ragioni per cui poi gli algoritmi possono essere unfair che hanno a che fare con i dati storici ovviamente ma anche poi con quelli che vengono definiti i proxy e per me l'argomento della proxy è molto molto serio per esempio faccio un esempio un po' drammatico ma per esempio io posso dire sono una persona che assume e devo dire come criterio per me per poter assumere voglio lavoratori che vengano in ufficio tutte le mattine alle 8 ora se io ho l'ufficio vado a cercare poi tramite la macchina l'algoritmo da cercare persone che rappresentano queste caratteristiche e mando questa macchina nel mercato per andare a cercare persone simili a queste caratteristiche ora se il mio ufficio è in centro a Londra o in centro a Milano chi è che sarà capace di venire a lavorare la mattina in orario e se l'orario è le 8 la persona che abita in periferia che magari ha 4 bambini che deve accompagnare il bambino all'asilo oppure l'uomo o 30enne single che abita nel monolocale in centro a Milano quello che voglio dire è che l'unfairness nell'intelligenza artificiale è un problema molto complesso e quello che inoltre voglio dire è che fissare o fix aggiustare l'algoritmo dal punto di vista tecnico è solo una parte della soluzione di una soluzione che in realtà è anche etica è legale ma è anche un problema filosofico della società è lo stesso con il problema del riconoscimento facciale stiamo lontani dall'idea che il problema del riconoscimento facciale è il fatto che sia un fair e che non riconosca una donna nera ma perché se la riconoscesse saremmo disponibili avere il riconoscimento facciale siamo sicuri che anche se la macchina non commettesse errori siamo sicuri che in realtà l'uso stesso della macchina non sarebbe poi discriminatorio allora il problema per cui io cito il problema della fairness è perché la fairness è un problema enorme che richiede una competenza nuova tra persone che abbiano esperte di computation dal punto di vista legale anche perché la fairness è diversa in termini di privacy da com'è nel diritto della tutela del consumatore o com'è da un punto di vista dell'antidiscriminazione ma poi voglio dire e lì vengono poi tutti i temi di cui si discuteva prima che secondo me però pizzetti sono etici cioè sono i temi del trade off che deve essere trovato allora per esempio il trade off tra l'accuracy l'accuratezza delle informazioni con il fatto della purpose limitation con il fatto della quantità di informazioni che dobbiamo andare a prendere il trade off tra quanto è fair un algoritmo per esempio nell'andare a cercare la gente promuovergli un advert per una ricerca di lavoro è il suo valore commerciale è ovvio se io sono un'azienda e voglio che la gente clicchi sul mio advert io non posso fare questo advert serio perché altrimenti non lo posso fare equo non lo posso fare fair perché se no non avrei abbastanza clic in grado poi di andare a valorizzare e dare un senso commerciale alla mia operazione è lo stesso secondo me il problema dell'explanability allora io lavoro con moltissime imprese sul tema dell'explanability allora è vero è vero che è un grande valore il fatto che una persona possa andare a dire ma come è stata fatta questa mia decisione e avere una spiegazione del funzionamento dell'algoritmo però attenzione che cos'è questa spiegazione se la spiegazione sono cinque pagine in codice è irrilevante se la spiegazione è una spiegazione che non è comprensibile allora rischia di fallire e di non funzionare esattamente per le persone che avrebbero bisogno maggiormente bisogno di trasparenza e di explainability l'explanability e la transparency sono concetti importanti ma sono diversi e secondo me vanno appunto capiti meglio tutti e due ora voglio chiudere su questo allora io penso che il problema che noi ci troviamo di fronte è che abbiamo la necessità di una cornice legislativa su questo tema che non è facile non è facile perché incrocia i temi della privacy incrocia i temi dell'antidiscriminazione incrocia i temi dei diritti umani sull'antidiscriminazione per esempio io ci andrei molto calda cioè l'idea che noi possiamo assumere che la legge la normativa in maniera di antidiscriminatoria possa essere utile nel campo algoritmico è una cosa che mi lascia molto perpless lavorando nel settore lavorando sulla materia sulla tecnica io trovo molto difficile che si possa utilizzare la normativa di antidiscriminazione per un semplice motivo perché spesso l'antidiscriminazione nell'AI avviene by proxy come si dice io posso discriminare indirettamente tramite un algoritmo le persone che vanno a visitare un certo tipo di sito internet il fatto che una persona visita un certo tipo di sito internet in realtà non è una categoria protetta secondo la legge sull'antidiscriminazione ma può ma può in realtà essere una proxy perché chi visita quel sito ha un particolare background o magari è un sito visitato in particolare da persone di una certa background razziale e lo stesso avviene per quanto riguarda i codici postali per quanto riguarda la famosa discriminazione da proxy allora in questo difficoltà dal punto di vista legislativo noi abbiamo bisogno secondo me di una cosa Longo parla di literacy ha ragione e io andrei ancora più là e direi noi abbiamo bisogno di un lessico comune tra diverse aree di interesse e di studio per esempio secondo me una delle cose di cui noi abbiamo bisogno è che chi si occupa di computazione chi si occupa di legge i giuristi riescano a sviluppare secondo me un linguaggio comune su questi temi è molto difficile per esempio io citavo la fairness il nome da fairness dal punto di vista matematico è molto complessa da raggiungere nell'ambito algoritmico e siamo di fronte al solito dibattito facciamo l'uguaglianza dell'opportunità l'uguaglianza di partenza l'uguaglianza d'arrivo sono in realtà e mi riferisco a pizzetti quindi anche scelte etiche su quale si scelga quale 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 metodologia si scelga però quello che secondo me manca quello che a me piace definire anche come literacy in questa fase è quella capacità di creare quell'essico comune di cui ancora non abbiamo ancora se ne vede troppo poco a me piacerebbe che si riuscisse per creare quell'intersozionalità per creare quella capacità quella trasversalità di studi a mettere insieme giuristi insieme con programmatori per riuscire a trovare intorno a parole chiave quell'essico comune che secondo me ci permette poi di poter procedere con un'analisi seria dei rischi e dell'opportunità che ci troviamo di fronte grazie grazie perfettamente in linea con quello che stiamo dicendo grazie per aver aggiunto ulteriori elementi a conferma ecco invece vedendolo da un punto di vista più di diritto qui abbiamo Giorgio il professor Giorgio Resta e qui adesso cedo la parola per i suoi 15 minuti quindi quindi insomma vorremmo capire grazie grazie al suo intervento quali sono gli aspetti più di diritto su cui fare leva ecco per guidare questa trasformazione come un po' come l'obiettivo un po' di questa nostra di questo nostro evento probabilmente grazie grazie molto io innanzitutto non prenderò tutti i 15 minuti penso perché sono state dette diciamo quasi tutto quello che c'è da dire ma poi leggendo il libro di Guido Alessandro Longo si ha l'impressione davvero di avere di fronte un orizzonte che ha tracciato la gran parte dei problemi devo dire io sono particolarmente grato per l'invito non solo per il piacere appunto di aver potuto leggere il libro in anteprima ma per aver ascoltato le parole di Franco Pizzetti che come sempre ha una capacità di visione oltre al particolare del singolo istituto del problema che a mio avviso è davvero un modello di riflessione per i giovani che poi si giovani giuristi che si accostano a questi temi quindi sono davvero molto grato appunto per aver ascoltato queste parole con cui mi trovo in totale sintonia non ultimo anche alla luce di quello che ho appena ascoltato il problema dell'etica nel senso l'attitudine piuttosto scettica nei confronti di questo strumento diciamo così di autoregolazione minore del diritto che talora è una via che viene come dire suggerita dalle stesse grandi aziende perché riescono a scrivere da solo le regole che si applicano che poi sono non sono prie di sanzione quindi è ovvio che rispetto alla vastità dei temi che abbiamo davanti un approccio incentrato sull'etica mi lascia molto molto perplesso ma per le ragioni che diceva prima il professor Pizzetti io non voglio fare una carrellata ai problemi giuridici perché appunto sono stati già ben ben trattati e mi pare che diciamo ci sia una grandissima attenzione sulle questioni diciamo così di regolazione di una tecnica che ormai è così diffusa che non è eliminabile dalle nostre società vorrei invece provare a richiamare l'attenzione su alcuni dati impliciti del discorso sull'intelligenza artificiale e su questo mi trovo molto in sintonia con le ultime cose dette dalla dottoressa Bertolotti che ho appena ascoltato relativamente al modo in cui nasce si sviluppa diciamo così alla cornice epistemologica dei modelli di intelligenza artificiale e perché su questo sono stato molto colpito dalla lettura di un libro recentemente che non è ancora uscito ma sta per uscire uscirà in aprile per Yale University Press di Kate Crawford che è una delle fondatrici di AI Now il famoso istituto che si occupa appunto dello studio dell'impatto sociale e etico diciamo in generale per la nostra società dell'intelligenza artificiale questo libro si chiama Atlas of AI Extraction Politics and Power in Artificial Intelligence ed è un libro secondo me straordinario non ho avuto modo di leggere quello della redattrice che mi ha preceduto ma penso che sia abbastanza sulla stessa linea perché è proprio volto far vedere tutto ciò che c'è dietro l'intelligenza artificiale che noi non cogliamo come utenti come cittadini ma anche spesso come giuristi come regolatori che siamo all'interno di un discorso tecnologico che in qualche modo va decostruito mi ha molto colpito di questo libro la critica che si fa della stessa espressione di intelligenza artificiale per due aspetti primo perché mettendo l'enfasi sull'artificialità di questa di questa tecnologia che è anche di più di una tecnologia si dimentica quello che c'è dietro quello che c'è dietro quello che c'è dietro in termini di sfruttamento delle risorse naturali una per tutte il funzionamento degli iPhone il funzionamento delle macchine senza guidatore richiede per esempio nel caso di Tesla il consumo di 24.000 tonnellate di idrossio di litio ogni anno che è la metà del consumo globale di questa risorsa scarsa che implica uno sfruttamento minerario rispetto all'area del mondo come il Congo che sono dati conflitti geopolitici che non è sempre un'energia pulita perché il consumo per esempio di acqua dei data centers è un problema reale c'è dietro appunto allo sviluppo di questa tecnologia clean cloud queste espressioni quasi sfuggenti sfruttamento di risorse infrastrutture lavoro il problema dello sfruttamento del lavoro per la creazione di algoritmi è un tema drammatico perché ovviamente su questa questione noi pensiamo soprattutto all'impatto dell'intelligenza artificiale sui lavoratori nel mondo del lavoro e quindi i problemi della sorveglianza il problema dell'incentivazione che viene creata sui lavoratori precari dagli algoritmi di Uber di Deliveroo e via discorrendo ma cosa c'è dietro il lavoro del tagging lo sfruttamento della manodopera a basso costo in tutto il mondo spesso attraverso piattaforme come quella di Amazon il Mechanical Tark di Amazon che mette in competizione lavoratori senza tutele e su questo per esempio vorrei richiamare anche il bel libro di Simone Pieranni giornalista e manifesto che è stato tanto tempo in Cina che si chiama Red Mirror in cui descrive le condizioni di lavoro di chi fa tagging delle immagini e di chi attribuisce significati perché poi dopo le macchine li possono elaborare e questo è qualche cosa che noi non dobbiamo dimenticare perché sta dietro lo sviluppo di una tecnologia che come tutte le tecnologie non è neutra e come ci insegna Carpolani rispetto allo sviluppo alla storia della prima rivoluzione industriale dietro lo sviluppo tecnologico vi sono vincenti e perdenti vi sono dinamiche di potere vi sono dinamiche di sfruttamento che noi dobbiamo avere presenti e lo stesso sul tema della datification dei dati beh io credo che non dobbiamo dimenticare un dato un elemento diciamo meglio molto rilevante in fondo lo sviluppo di questa tecnologia sarebbe impensabile nei luoghi in cui è avvenuto e penso soprattutto agli Stati Uniti e alla Cina se i dati non fossero stati costruiti in quei sistemi come Res Nullius un po' come la terra era costruita dai teorici europei dell'epoca delle colonizzazioni come Res Nullius che era suscettibile di occupazione qualora il godimento della terra da parte per esempio delle comunità aborigine non rispecchiasse i modelli proprietari occidentali e dietro questa costruzione teorica apparentemente neutra ci sono stati secoli di sfruttamento ebbene pensiamo un po' quello che è avvenuto rispetto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale solo un esempio le immagini con cui noi ora ci beiamo dei meccanismi algoritmici di riconoscimento delle immagini beh dietro lo sviluppo di quelle tecniche ci sono messe in comune forzate di migliaia milioni di immagini all'interno di databases come quello di ImageNet oppure come quello di Megaface acquisite senza il consenso dei soggetti spesso minori spesso anche attraverso scelte scientifiche di università come Stanford che aveva fatto installare telecamere di sorveglianza all'interno di caffè come Starbucks captando le immagini degli avventori e quindi lavorando sullo studio di quelle immagini per lo sviluppo delle linee geometriche che poi sono la base degli strumenti di riconoscimento delle immagini pensiamo quello che è avvenuto per esempio rispetto alla messa in comune delle immagini prese dagli uffici di polizia americani dove le immagini dei ricercati o le immagini dei detenuti vengono prese studiate spesso con i finanziamenti del governo americano per sviluppare meccanismi di riconoscimento delle emozioni che è un'altra grande frontiera che è estremamente preoccupante bene al di là del riconoscimento facciale perché quello su cui molti governi oggi lavorano è il riconoscimento delle emozioni rispetto per esempio ai controlli degli aeroporti controlli di sicurezza una sorta di nuova macchina della verità attraverso gli algoritmi e questi sono gli scenari di cui abbiamo di fronte ma cosa c'è dietro c'è una situazione nella quale i dati i dati delle persone i dati del mondo sono percepiti come il resto di un legus altro esempio che secondo me è importante l'esempio della Cina beh la Cina non avrebbe raggiunto la dominanza tecnologica degli Stati Uniti probabilmente se non ci fosse stato un sistema integrato non soltanto diciamo così di sorveglianza pubblica ma anche di sorveglianza privata attraverso l'integrazione di finanza e comunicazione che è stato costituito da WeChat che è diciamo il nostro corrispondente di Whatsapp ma estremamente più diffuso in Cina con cui si fa tutto compreso l'acquisto di qualsiasi genere di consumo chiunque va a Pechino si rende conto che ha difficoltà a comprare con i 50 corrispondenti dei 50 centesimi un biglietto della metropolitana perché tutto si acquista attraverso il telefonino ma questo significa che nell'ultimo decennio sono stati messi insieme da parte delle imprese private con la cointeressenza evidentemente del governo milioni e milioni di dati relativi agli spostamenti agli acquisti dei cittadini che poi sono divenuti la base su cui come si dice we feed the algorithm cibiamo l'algoritmo allora questo è un grandissimo tema a mio avviso cioè quali sono i sistemi di controllo giuridici che precedono lo sviluppo dell'algoritmo e che in qualche modo segnano una diversità a livello regulatorio globale tra i tre grandi player anzi diciamo i due grandi player è il mezzo player i due grandi sono stati uniti e cina il mezzo player è l'europa perché l'europa è ancora in una situazione di ritardo strutturale nello sviluppo di queste tecnologie però una parte di questo ritardo dobbiamo essere consapevoli e su questo io credo che le cose che ha detto franco pizzetti meritano di essere attentamente meditate sono anche il frutto di una scelta che è una scelta di civiltà politico giuridica che non è di ieri che è la scelta di creare un sistema infrastrutturale istituzionale di accesso alle informazioni che non avviene nel far west informativo e che quantomeno per quanto attiene i dati personali si muove da un'idea del divieto di trattamento senza una serie di garanzie senza una serie di basi giuridiche cosa che come sappiamo non esiste negli Stati Uniti cosa che non è esistito sino a qualche tempo fa in Cina e su questo vorrei dire qualcosa perché penso che sia importante notare come nell'ultimo codice civile cinese approvato nell'aprile dello scorso anno nel primo grande diciamo della modernità codice civile cinese primo esempio in tutto il mondo esiste un libro interamente dedicato ai diritti della persona e in questo libro interamente dedicato ai diritti della persona vi sono diverse disposizioni che hanno a che fare proprio con intelligenza artificiale che vietano per esempio il deep fake relativamente alle immagini alla voce vi sono una serie di garanzie sull'accesso alle informazioni relative al credito individuale quello che voglio dire è che è un mondo che si sta muovendo e una delle ragioni per cui la Cina si sta muovendo quantomeno nell'ambito dei rapporti interprivati per questo il codice civile è che l'esempio europeo sta facendo scuola nel mondo il modello regolatorio europeo e che se sin qui come dire è stata una delle ragioni probabilmente anche del ritardo tecnologico perché è ovvio che se non ti muovi in un far west per la costruzione delle tecniche di intelligenza artificiale paghi un ritardo strutturale però questo ritardo è possibile che possa essere non dico colmato ma sicuramente in qualche modo ripagato da un'asportazione del modello regolatorio di controllo esattamente come è avvenuto in relazione al trattamento dei dati personali dove sappiamo che con la grande eccezione degli Stati Uniti l'esportazione del modello europeo è stata una realtà pur contro quello che si diceva all'inizio dell'introduzione della direttiva comunitaria con tutti i difetti ma a livello globale mi pare che si possa dire qualsiasi comparatista può confermare che vi è stato anche per il potere di leverage che abbiamo vista l'entità del mercato europeo un'influenza allora se questo è vero quali sono diciamo alcuni dei problemi che ancora dobbiamo risolvere sia sul piano giuridico sia su quello epistemologico io penso che sul piano giuridico una delle grandi questioni aperte sulla quale lo stessa proposta di european data governance act dello scorso dicembre non ha ancora risolto tutti i problemi ma ha segnato in qualche modo una linea è da un lato il regime dei dati non personali perché tutta la grande produzione teorico normativa sin qui ha toccato soprattutto il segmento dei dati personali ma per i dati non personali che sono altrettanto importanti se pensiamo ai dati prodotti dai sensori per esempio i sensori in agricoltura o i sensori meteorologici sensori relativi al consumo di energia nelle città intelligenti c'è ancora questa grande incertezza di regime proprietà del dato questa era l'ipotesi avanzata dalla commissione qualche anno fa fortunatamente lasciata da parte perché ci si è resi conto che gli ostacoli di natura tecnica ma anche sul piano dell'innovazione derivanti dall'introduzione di un diritto di proprietà tipico diciamo così sul dato non personale sono troppo elevati altra questione importante il problema dell'accesso rispetto ai contratti di licenza dei dati non personali ma su questo non mi posso soffermare perché volevo sottolineare un punto che mi ha visto più importante qual è il rapporto diciamo così government to business l'accesso del governo ai dati non personali detenuti dai grandi conglomerati industriali del mondo dell'informazione l'European Governance Act incentiva gli accordi volontari di scambio il data sharing e addirittura configura una forma divertente quasi non so quale ritorno operativo possa avere di data altruism una sorta di solidarietà dei dati attraverso la donazione individuale che sul piano come dire della simmetria rispetto a quello che avviene per esempio rispetto alla donazione del corpo è molto carino ma mi sembra una cosa come dire un po' che viene dall'ambiente angloamericano che non credo che possa avere poi realmente un impatto ma il punto è quando il grande conglomerato ecco dicevo se noi pensiamo appunto a attori come Airbnb e altri di questo tipo rispetto alla mobilità eccetera è possibile ipotizzare qualche forma di accesso compalsori da parte del potere pubblico a questa grande massa di dati per le finalità di programmazione in genere per le finalità del 97 della costituzione di efficiente gestione della pubblica amministrazione possiamo addirittura pensare alla norma sull'espropriazione dei beni corporali applicabili ai beni materiali lo butto lì solo come provocazione perché evidentemente quello che è avvenuto dal mio punto di vista rispetto alle app di contact tracing problema sul quale non entro ma mi pare abbastanza rilevante perché il diniego posto da Apple e Google di condivisione dei dati con i sistemi sanitari a livello centralizzato al quale soltanto la Francia ha avuto come dire l'ardire di opporsi evidentemente segnala un problema di fondo che quando questi grandi players entrano in un mercato nuovo che è quello della salute in questo caso hanno tutto l'interesse a mantenere un forte controllo su questo parco informativo e quali sono le prerogative del potere pubblico rispetto a queste infrastrutture essenziali per il futuro io credo che questo sia un punto ancora aperto che l'incentivazione di accordi volontari non può completamente risolvere sul quale probabilmente è necessario ragionare un altro problema che qui non è di carattere giuridico ma di carattere epistemologico che si collega a quello che diceva poco fa Franco Pizzetti relativamente all'impatto che queste tecniche hanno sulla costruzione della società sulla conoscenza e anche su altro ha a che fare con il problema della società della classificazione la cornice epistemologica con cui gli algoritmi operano è quella della etichettatura e della classificazione che poi mette in moto tutto il processo di machine learning ma come si fanno queste classificazioni per esempio in questo libro Kate Crawford racconta delle cose molto interessanti sulla storia del tagging sul fatto che per esempio nel riconoscimento delle immagini ci siano solo due categorie principali su cui si è costruito quella dell'uomo e quella della donna e tutte le persone che hanno un altro orientamento sessuale che non si riconoscono nell'una o nell'altra queste sono scelte imposte dai programmatori ai quali sarebbe necessaria una interazione qui con il giurista con il filosofo morale con il teologo con i portatori di altre discipline dove la risposta I am only an engineer non può ritenersi soddisfacente e noi comparatisti che ci siamo scontrati per 200 anni con il problema delle classificazioni sappiamo che ogni ranking ogni classificazione ogni il richiamo per un approccio su piano metodologico fortemente interdisciplinare dove il giurista da un lato deve superare la propria autoreferenzialità e deve formarsi al cospetto di altre discipline qui non c'è solo la disciplina informatica ma ci deve essere necessariamente lo studio della genetica ci deve essere lo studio della storia e via discorrendo dobbiamo superare questa autoreferenzialità che ci siamo imposti nell'epoca del positivismo ma lo dobbiamo fare nelle università cambiando i metodi di insegnamento di questo sono assolutamente convinto ma d'altra parte ci deve essere anche l'apertura da parte dell'ingegneria informatica a valori che non sono soltanto quelli del funzionamento della macchina grazie Sì, grazie Giorgio è proprio quello che stavamo dicendo quindi anche tu hai portato ulteriori elementi a conferma altri elementi arriveranno da un punto di vista più tecnico tecnologico da Guido Vetere il professore della sapienza è anche insomma un attore diretto di questo mondo quindi Guido ti chiedo se riesci a contenere in 15 minuti il massimo il tuo apporto sugli aspetti più tecnologici che per te sono rilevanti per comprendere la materia e quindi insomma non chiedi certo grazie non so quanto sarò tecnologico in questa circostanza perché ho avuto tantissimi stimoli da questa discussione e vorrei anche riprendere dei punti ma cercando di declinarli anche un po' nei termini del stato dell'arte della ricerca sull'intelligenza artificiale e mi piacerebbe parlare fino a domani mattina ma farò del mio meglio per contenermi è stato richiamato da tanti da Guido dal professor Pizzetti insomma un po' da tutti questo tema dell'esplanability che appunto è come si è detto incardinato nel GDPR in un modo che apre il tema di beh come facciamo a garantire questa esplicabilità chiamiamola così dei ragionamenti automatici che vengono fatti sui dati che noi accumuliamo sui dati personali così da garantire che decisioni eventualmente prese con degli automatismi siano rivedibili siano in qualche modo contestabili siano rivedibili in processi diciamo di carattere negoziale e il tema riguarda come diceva Guido scorsa non soltanto chiaramente i dati personali ma riguarda un po' tutto riguarda l'applicabilità di certe tecnologie in ambito giuridico ma anche economico finanziario concedere crediti eccetera quindi si pone il tema ben noto nella ricerca dell'intelligenza artificiale dell'explanabilità ma cos'è una spiegazione allora rispetto alle decisioni automatiche agli processi di ragionamento automatizzati qui alcuni radicali e sostenitori delle deep neural networks cioè delle tecnologie di apprendimento automatico che vanno per la maggiore che hanno determinato poi la recente diciamo primavera dell'intelligenza artificiale cioè questa nuova fase espansiva dell'intelligenza artificiale ebbene gli ingegneri insomma delle deep neural network dicono ma una deep neural network che prende una decisione per esempio se una persona è un buon candidato per commettere il prossimo crimine diciamo queste spiegazioni sono perfettamente ottenibili nel paradigma del neural network basta guardare come funzionano i parametri con cui il modello della rete neurale è stato stimato è stato prodotto benissimo purtroppo questi parametri sono spesso milioni sono ormai non meno di milioni e arrivano ad essere addirittura miliardi o centinaia di miliardi come nei casi delle reti neurali linguistiche per esempio GPT3 fatto da OpenAI da questo consorzio diretto da Microsoft sostanzialmente qualsiasi rete neurale profonda può spiegare perché ha fatto una classificazione tuttavia quella spiegazione per noi non significa nulla perché è semplicemente guardare le connessioni tra centinaia di miliardi di chiamiamoli così neuroni artificiali anche se è una immagine tecnicamente inappropriata quindi c'è il tema umanistico dietro di cui accennava anche il professor Pizzetti cioè non è importante che la macchina dia in assoluto una spiegazione è importante che noi siamo in grado di capire quella spiegazione cioè che la macchina si esprima in termini nei termini che sono interni che sono nel perimetro della nostra umanità e allora come ragiona la macchina innanzitutto c'è da dire una cosa molti sistemi che fanno questo tipo di ragionamenti non sono reti neurali sono dei sistemi diversi costruiti con architetture diciamo se vogliamo più tradizionali che fanno ragionamento automatico sulla base di modelli cioè model driven non è tutto data driven questo è un mito da sfatare dell'intelligenza artificiale si pensa che siano tutti neural network non è vero l'intelligenza artificiale che si fa nell'industria integra e mette in serie diciamo molte tecniche diverse tra cui anche tecniche di ragionamento logico affini alla tradizione dell'intelligenza artificiale degli anni 70 80 prologue eccetera in generale cos'è una spiegazione è la descrizione del ragionamento del sistema questo ragionamento il ragionamento può essere sostanzialmente di direttivi come sappiamo dalla 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 filosofia in generale cioè il ragionamento induttivo che parte dai dati e costruisce leggi e questo è il caso del deep neural network in qualche modo e il ragionamento deduttivo cioè che da teorie quindi da leggi genera dati è in grado di dimostrare se una certa disposizione di dati soddisfa la teoria o no quindi va dalle leggi ai dati e c'è il ragionamento abduttivo abduttivo è una parola che introdotta da questo padre della semiotica moderna che c'è Sander Space nell'Ottocento il ragionamento abduttivo è un ragionamento che applica che dato un caso riconduce questo caso a un'ipotesi sulle leggi che hanno generato la fattispecie un esempio semplicissimo che si fa in genere nelle lezioni del primo anno dell'intelligenza artificiale apro la finestra vedo la strada bagnata penso ok questa notte ha piovuto ok bene questa è una abduzione perché è un'abduzione perché potrebbe benissimo essere che invece di aver piovuto sia passata una macchina della nettezza urbana e abbia con una pompa diciamo lavato la strada ok questa è una possibilità abbastanza remota in realtà molto più probabile che abbia piovuto tipicamente quando la strada è bagnata ha piovuto bene noi facciamo abduzioni diciamo il nostro modo di ragionare umano è sostanzialmente abduttivo addirittura diciamo la comprensione del linguaggio di quello che sto dicendo in questo momento è un processo abduttivo i filosofi del linguaggio questo lo dicono insomma aperti sperbis quindi noi facciamo continuamente abduzioni il nostro modo di ragionare è abduttivo la cosa interessante da notare è che la abduzione non è un ragionamento logicamente garantito anzi l'abduzione dal punto di vista logico è un errore si chiama errore dell'affermazione dell'antecedente se A implica B e B è vero allora A è vero questo tipo di ragionamento è erroneo perché A potrebbe non essere l'unica causa efficiente per B capito quindi inferire A osservando B è un è un tirarci a indovinare sostanzialmente l'abduzione che reasoning at base explanation nella definizione classica è in parole povere tirarci a indovinare la la logica ha cercato e cerca c'è una certa tradizione di studi di formalizzare la l'abduzione ci riesce ci sono delle proposte delle cose però sostanzialmente queste la formalizzazione logica di questo tipo di ragionamento arriva fino a un certo punto perché in realtà l'abduzione che ci serve quella che ci serve per esempio l'abduzione che ci serve per capire il linguaggio fa ricorso a conoscenze stese fa ricorso a conoscenze del mondo a nozioni e notizie sugli stati di cose ecco si chiama in intelligenza artificiale il problema del common sense reasoning cioè il ragionamento di senso comune sappiamo e i risultati sono evidenti che le deep neural network cioè i sistemi che si basano puramente induttivi che costruiscono modelli che chiamiamo per comodità statistici in realtà poi quelli che fanno reti neurali si arrabbiano perché dicono no questa non è statistica vabbè comunque insomma sostanzialmente ci siamo capiti possiamo chiamarli modelli statistici sanno benissimo che con queste tecniche diciamo induttive non si può arrivare a costruire quella conoscenza estesa sul mondo che sta alla base del senso comune d'altra parte almeno dagli anni 80 grazie a Giudia Perle soprattutto sappiamo benissimo che correlation is not causation cioè che dalle correlazioni non si possono produrre modelli causali quindi i modelli causali sono inerentemente razionali ok e quindi si pone il problema di come possiamo ragionare e come possiamo costruire questi modelli causali osservate bene che in quei proxy di cui parlava la dottoressa Ivana Bartoletti quei proxy cioè quei sistemi che fanno dei ragionamenti e propongono insomma delle fanno delle inferenze a partire dai nostri dati dai dati beh quei proxy lì che sono anche possono generalmente essere dei programmi diciamo di tipo razionale cioè con delle regole sostanzialmente beh in quei quei proxy li fanno tipicamente abduzione cioè questi ragionamenti questi ragionamenti diciamo che usano conoscenze stese e modelli causali sono embeddati consentitemi questo anglismo dentro dentro questi dei programmi delle black box sostanzialmente quindi una grande ricerca è stata dedicata negli anni passati soprattutto sull'impulso della ricerca su semantic web al tema di beh come specifichiamo questi modelli causali in modo tale che siano in qualche modo trasparenti e quindi consentano in qualche modo quella explanability di cui abbiamo bisogno qui c'è stata un ingresso negli anni 90 della ontologia formale nella computer science e questo si deve soprattutto alla ricerca italiana al gruppo del CNR guidato dal dottor Guarino c'è stato un approccio l'ingresso di tutta quella filone di ricerca in della filosofia analitica del novecento che parte da Wusserl e poi arriva appunto a tutti gli autori anglosassoni tra gli anni trenti e il dopoguerra insomma insomma il tema era pigliamo questi strumenti formali dell'ontologia formale cioè di teorie come la teoria delle parti la teoria dell'identità eccetera e vediamo se con questi strumenti riusciamo a produrre delle ontologie cioè dei modelli del mondo diciamo di efficace questa ricerca è andata fino a insomma ha fatto dei progressi tuttavia ecco c'è da dire che non ha poi alla fine prodotto un risultato dei risultati decisivi nel campo dell'intelligenza artificiale hanno prevalso in realtà dei degli approcci più linguistici sostanzialmente quindi oggi quando si parla di ontologie nel semantic web nel linked open data eccetera eccetera si parla di costrutti che sono sostanzialmente dei lessici concettualizzati diciamo così quindi queste approcci queste queste ontologie sono state anche criticate dalla stessa comunità dell'intelligenza artificiale diciamo induttiva neural network statistica eccetera eccetera perché come strumenti diciamo dogmatici no l'idea è dire no queste ontologie ci vogliono dire fucoltianamente diciamo così come sta in mondo noi invece vogliamo noi noi ricercatori di deep neural network che vogliamo usare soltanto dati senza modelli precostituiti diciamo che sono che questo approccio è dogmatico in realtà in realtà diciamo la risposta della di quella parte della ricerca dell'intelligenza artificiale che lavora sui modelli concettuali cioè sull'ontologia è che le ontologie sono degli strumenti critici non dogmatici cioè servono sostanzialmente per raggiungere un accordo di significato un accordo di significato notate lo dico ok queste cose hanno un'importanza cruciale non soltanto per l'esplanability ma anche per altre per tante altre circostanze faccio un piccolo inciso questo problema della trasmissione dei dati del covid dalla regione Lombardia che si hanno prodotto dei risultati falsati era un problema sostanzialmente ontologico cioè non si sapeva bene come interpretare l'assenza di un dato bene questi sono esattamente quel genere di problemi che i modelli concettuali dell'intelligenza artificiale cercano di chiarire e cercano di codificare quindi per modelli concettuali espliciti come strumento fondamentale per revisione critica dei risultati inferenziali dell'intelligenza artificiale questa sembra sta emergendo a mio parere a mio giudizio come strategia di approccio al problema dell'explanability molto lavoro c'è ancora da fare ma diciamo di questo adesso non possiamo parlare magari ci saranno altre occasioni ma comunque posso dire e testimoniare che la ricerca sull'integrazione tra tutto ciò di buono e di efficace che viene dagli approcci neurali quindi dagli approcci induttivi e tutto ciò che di necessario deve venire dagli approcci razionali quindi dalla modellazione concettuale ecco questa integrazione qui è oggi veramente uno dei temi di ricerca fondamentali dell'intelligenza artificiale e auspicabilmente potrà dare dei risultati o dei frutti sui temi di cui abbiamo stiamo discutendo stamattina grazie grazie Guido adesso passiamo la palla a un altro giurista il professore Salvatore Sicca ecco quindi come vedete stiamo facendo un approccio multidisciplinare con un ping pong che è proprio finalizzato a mettere assieme competenze diverse per arrivare poi a una migliore e una maggiore comprensione quindi anche per lei 15 minuti se riusciamo adesso davvero a rispettare questo termine perché altrimenti non andremo troppo lunghi rispetto al previsto bene grazie innanzitutto grazie per l'invito ringrazio l'Accademia Italiana per il codice di internet e anche grazie perché il nostro incontro si svolge intorno a un volume che ho avuto occasione di leggere proprio in vista del nostro incontro e di apprezzare in maniera particolare apprezzare non solo per i contenuti ma anche per il taglio per il metodo che è confermato nel seminario dirlo che è l'unico in realtà metodo possibile quando si affronta l'argomento di cui ci stiamo occupando che è appunto il metodo interdisciplinare come ricordava il nostro presidente di sessione un istante fa devo dire che ho una difficoltà e un disagio nell'intervenire la difficoltà è che intervengo dopo alcune bellissime relazioni ho apprezzato tutte le relazioni ma naturalmente mi consentirete di sentire particolarmente vicine le relazioni dei giuristi che mi hanno preceduti e soprattutto quella di Franco Pizzetti e di Giorgio Oresta perché molti degli argomenti che avrei voluto affrontare sono stati ovviamente già sviluppati così come mi ha colpito molto l'intervento di presentazione di Guido Scorza direi mi ha colpito ancora di più nella sua veste istituzionale attuale soprattutto in ordine a questo appello al recupero della priorità dei diritti fondamentali che però deve fare i conti con le osservazioni che faceva Franco Pizzetti nel suo successivo intervento e che cioè non basta come dire declamare la priorità assoluta dei diritti fondamentali ma occorre porre tutto questo al baglio della concreta effettività che si può garantire alla tutela dei diritti fondamentali nel contesto in materia e il disagio invece che ho è che in realtà da un po' di tempo quando prendo parte a convegni di questo tipo convegni che si occupano in senso ampio di diritto e tecnologia e in maniera specifica oggi che affrontiamo l'argomento ultimo di questa frontiera in evoluzione costante che è quello dell'intelligenza artificiale ecco io avverto un grande disagio nell'ascoltare delle ricostruzioni straordinarie teoricamente ineccepibili tecnologicamente fondate e ripeto apprezzo molto che si sia insieme tecnologi e giuristi ma forse il vero tavolo quello effettivo di lavoro dovrebbe essere tra politica ed economia sono questi i due grandi attori che dovrebbero confrontarsi se ne avessero voglia e se l'uno avesse sufficiente forza umiltà di confrontarsi con la politica e naturalmente che se la politica avesse sufficiente forza per giocare ancora un ruolo di governo di programmazione di indicazione di linea di selezione di valori all'economia perché ancora una volta siamo sommersi da una molteplicità di profili di dettaglio lo siamo qui ovviamente dal punto di vista tecnologico penso soltanto come viene ben evidenziato in volume alla molteplicità dell'accezione di intelligenza artificiale che va dalla quella più tradizionale cioè semplicemente del sistema che si basa su un software complesso fino a quella dotata di autonomia con tutte le diverse valenze che questo viene ad avere ma penso anche alla molteplicità di settori che dal punto di vista giuridico si apre in relazione a ciascuno di questi temi e anche in ordine alla intelligenza artificiale nel libro per esempio viene ben tracciato tutta la tematica della soggettività giuridica dell'intelligenza artificiale della necessità o meno di ricorrere a una soggettività giuridica nuova rispetto a quelle che già conosciamo il secondo grande ambito di intervento anzi direi forse quello che a monte che Guido Scorsi e Alessandro Longo ben individuano nel volume è quello del sì o no un intervento legislativo in materia con i pro e i contro di ciascuna delle due soluzioni il terzo ambito è quello delle tutele ma le tutele presuppongono la graduazione degli interessi e dei valori in gioco insomma c'è una grande moltiplicazione di aspetti di profili che chiamerei di dettaglio qualche volta a detrimento o sul presupposto di mancanza di una visione d'insieme è vero anche che va propugnata la visione d'insieme la relazione di Franco Pizzetti è esattamente uno straordinario affresco di tutto ciò che viene prima del tema dal punto di vista strettamente tecnico dell'intelligenza artificiale ma è anche vero che poi di contro coltivare una visione d'insieme che non accetti la sfida del confronto vorrei dire del cimento con la concretezza dell'evoluzione tecnologica determina a mio avviso un senso almeno per quanto mi riguarda di profonda frustrazione allora un aspetto che vorrei segnalare qui prendendolo come caso paradigmatico e che è appunto affrontato nel volume una bella parte della trattazione è quello del modello di responsabilità rispetto all'intelligenza artificiale nelle sue molteplici applicazioni perché mi ha colpito non solo per una particolare vicinanza per quanto mi riguarda storica all'argomento della responsabilità civile in generale naturalmente anche la responsabilità civile in ambito informatico e tecnologico in senso ampio ma anche perché a valle perché la responsabilità civile ovviamente interviene in fase patologica a valle si ritrovano tutti i nodi risolti o tutte le ambiguità che ab inizio contraddistinguono un argomento e mi piace segnalare che appena pochi mesi fa per l'esattezza ottobre 2020 il 20 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha approvato come è noto parlando a un pubblico come dire informato accorto ha approvato la risoluzione sul regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale che vorrei segnalare per due motivi il volume non ne dava ovviamente ancora conto faceva grande riferimento al documento del 2017 per l'intelligenza artificiale in generale ma invece vorrei segnalare questo documento in maniera specifica almeno per due ordini di motivi da un lato intravedo un recupero uso un'immagine chiedo scusa a chi mi ha ascoltato altre volte perché sarò assolutamente ripetitivo ma uso un'immagine a me molto cala perché in questo risoluzione del Parlamento europeo ci sono timidi accenni di recupero del terreno del diritto cioè il diritto che non è solo l'insieme di regole ma il diritto inteso come capacità di selezione di interessi e valori e di indicazione di una linea che opera in un determinato settore il diritto timidamente sta tentando di recuperare un territorio altrimenti perso e stavolta lo sta facendo molto meglio per esempio di quanto non abbia fatto con la direttiva 2031 quella sul commercio elettronico dove vent'anni fa il legislatore europeo partiva dal presupposto dalla presa d'atto direi di resa dell'impossibilità di fermare un fiume in piena quello dell'evoluzione inarrestabile delle meravigliose sordie progressive della società della comunicazione arrendendosi per due ordini di motivi da un lato la necessità di non privare di competitività le imprese europee da un altro lato invece la intima convinzione che quella fosse la scelta giusta arrendendosi all'idea per esempio dell'esenzione dalla responsabilità dei motori di licenza questa volta invece intravedo dei timidi segnali innanzitutto sotto un profilo il profilo della consapevolezza della molteplicità del fenomeno dal punto di vista tecnologico se avete avuto modo di vederla e non ho dubbi che sia così viene per esempio fatta una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale una classificazione che conduce direi a una varietà di regimi giuridici applicabili di responsabilità e così deve essere ma d'altro canto è addirittura ribadito un principio che io considero rinunciabile in materia un principio di precauzione addirittura ci dovrebbe avviare se la risoluzione ha un seguito innanzitutto è fondamentale già segnalare l'opportunità di una scelta di tecnica legislativa perché il Parlamento raccomanda l'adozione di un regolamento cioè segnala la necessità che non vi sia una fase di intermediazione dei singoli ordinamenti e sarebbe interessante vedere quanta lealtà europea c'è nell'atteggiamento dei singoli ordinamenti basti pensare ai regimi fiscali di favore dell'Irlanda e dell'Olanda tanto per dirne una a favore degli OTP della comunicazione ma segnala la tecnica legislativa del regolamento e a mio avviso lo fa meritoriamente per un quadro realmente di diritto comune effettivamente applicato poi c'è anche appunto la spinta a una varietà di regimi applicabili a secondo del tipo di intelligenza artificiale di fronte al quale ci si trova per cui si andrà probabilmente a una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio ovviamente classificazione ad inevitabile aggiornamento periodico perché poche materie come queste richiedono è chiaro una costante verifica in concreto e per questi l'introduzione di un regime aggravato di responsabilità che non voglio entrare troppo sulla tecnicalità ma tanto per intenderci il riferimento principale al modello che è definito virtuoso della responsabilità per danno da prodotti dunque di un illecito affondamento di una responsabilità affondamento oggettivo semi-oggettivo e sul piano processuale con impressione non è la prova ma non è tanto questo che mi interessa non vi voglio annoiare con questi aspetti troppo tecnici quanto mi sembra e questo ha un rilevo molto più ampio di policy cioè di strategia di visione d'insieme mi sembra che per la prima volta il diritto non volga lo sguardo dall'altra parte ma assume la sfida come quando è segnalato che determinati sistemi di intelligenza artificiale potrebbero per le loro caratteristiche essere contraddistinti da un'opacità nella ricostruzione dell'apporto dei singoli operatori che condurrebbe inevitabilmente a ingiustificate disparità di trattamento o addirittura a una situazione di denegata giustizia in relazione alla fondamentale istanza di riparazione del danno di chi subisce gli effetti di un trattamento illecito attuato attraverso un sistema di intelligenza artificiale così come viene ribadito che in queste ipotesi è da considerare appropriato considerando 12 che l'operatore copria sia l'operatore di front-end che l'operatore di back-end cioè sostanzialmente un modello di canalizzazione in altre parole è una scelta di risarcimento a fondamento di rischio mi fermo qui nell'esamina tecnica il tema è immenso per esempio mi trovo del tutto convincente la prospettiva di abbinare un meccanismo un funzionamento una responsabilità da uso dell'intelligenza artificiale in senso ampio a un meccanismo di assicurazione obbligatoria quantomeno per quelle attività che sono classificate ad alto rischio e quindi impossibilità di procedere a un trattamento basato su intelligenza artificiale se classificata ad alto rischio in assenza di una copertura assicurativa ritenta congrua e vigilata su base pubblica allora che cosa voglio dire noto indizi di ripresa finalmente di governo del diritto certo mi rendo conto che se è ridicolo pensare a un intervento su base nazionale è probabilmente insufficiente concepire un intervento nel contesto europeo ma non è poco il passo avanti che si realizzerebbe dunque intervento regolamentare è diritto effettivamente vigente in tutti gli ordinamenti dell'Unione l'Unione europea che assume una consapevolezza nuova la stessa che in questi anni abbiamo registrato qua e là direi quasi a macchia di leopardo ma l'abbiamo registrata se qualcuno ha anche usato l'immagine di Unione europea verso United States oppure verso Cina tanto per dirne una insomma noto una serie di indizi che mi fanno pensare che il nemico non sia l'intelligenza artificiale ma il nemico che può fronteggiare solo un ordinamento giuridico via via progressivamente su base sovranazionale il punto di partenza europeo e non è di poco conto un ordinamento giuridico che possa fronteggiare questo nemico che è una idea di autoreferenzialità degli operatori che ritengono che qualunque tipo di disciplina costituisca un ostacolo all'ingresso nel mercato o un inutile orpello collegato a una visione tradizionale superata del diritto invece io penso che dobbiamo salutare con favore tutti i benefici che l'intelligenza artificiale ci sta fornendo e saremo davvero inseriti in un disegno di crescita progressiva sociale culturale economica alla sola esclusiva condizione che il diritto non abbia di chi mai al proprio ruolo e al proprio spazio penso per esempio a tutte le potenzialità applicative nella pubblica amministrazione ma penso alla straordinaria sentenza consiglio di Stato io la chiamo carbone perché conosco l'estensore alla straordinaria sentenza consiglio di Stato che impone la trasparenza algoritmica penso ad esempio alla necessità e soprattutto impone la prevenzione di una classificazione che possa condurre a discriminazioni su base algoritmica penso a tutta l'area che veniva anche stamattina evocata della prevenzione di forme di classificazione appunto discriminatorie penso a tutta l'area della giustizia predittiva che mi vede sono d'accordo con Guido Scorza assolutamente contrario dal punto di vista culturale ma non perché abbia timore dello strumento tecnologico perché poiché sono consapevole che è impossibile eliminare del tutto il rischio nella risoluzione del Parlamento europeo che vi menzionavo c'è quello stesso grado di vorrei dire acquiescenza all'idea che è ineluttabile una percentuale di rischio allora se è ineluttabile una percentuale di rischio che può essere equilibrata da una responsabilità da rischio connessa addirittura se necessario e se possibile un sistema di assicurazione obbligatoria quando si discorra di interessi e valori di natura economica o assolutamente una contrarietà che è culturale qualcuno potrebbe chiamarla come dire etica quando invece la percentuale di rischio venga abbinata a valori esistenziali alla tutela della persona quindi grazie ancora di questo invito complimenti agli autori per questo interessantissimo volume spero che la comunità che oggi qui raccolta torno a Alessandro Long e Guido Scorza per celebrare il loro sforzo sia una comunità ma del resto l'Accademia per il codice di internet presa tutta Alberto Gambino da sempre su questo terreno perché diventa anche una comunità dialogante che aiuti il diritto a recuperare il proprio territorio un diritto consapevole dell'evoluzione tecnologica e aiuti i tecnologi a rendersi conto che hanno tutto da guadagnare dall'apporto di un diritto che finalmente svolga il proprio ruolo è un cammino non semplice è un cammino irto di difficoltà ma provvedimenti come quello TikTok ormai assurdo la cronaca di cui mi pare che sia il senore proprio guido scorsa non vorrei sbagliare mi danno l'idea che forse anche tra le maglie di una legislazione apparentemente ricca ma con dei spazi ristretti sia possibile allargare la breccia in cui il diritto torna a fare il diritto la politica torna a fare la politica grazie grazie delle belle parole è anche un mio auspicio questo un mostro auspicio metto qui anche guido scorsa non dubito del suo parere Mauro Lombardi un economista all'Università di Firenze Mauro se ci sei come sempre ci sono ci sono che non ti vedo in video pensavo mi aveste bloccato voi ok eccoci adesso comincio a vedere Mauro ci sono come sentito cosa manca soprattutto il lato macroeconomico adesso più economico che ti invito a esplorare approfondire in modo specifico tralasciando altre considerazioni di cui abbiamo già parlato sì io ringrazio davvero molto per l'incontro odierno per aver organizzato questo incontro odierno perché sono venuti fuori una serie di temi di riflessioni molto importanti poi farò anche riferimento mi muovo dal punto di vista economico trascurano molti temi che vorrei invece riprendere ma farò solo un accenno solo dei rinvii per fortuna c'è stato l'intervento di professor Vettere che ha toccato alcuni temi su cui io farò un esempio per cui non dovrò spiegare cosa intendo per processo abduttivo che è molto attuale lo sentirete fra pochi minuti allora divido il mio intervento in tre punti il primo punto è l'uso dell'intelligenza artificiale insomma delle nuove tecnologie dell'informazione in genere come strumenti formidabili di misurazione quantitativa e di realizzazione di quello che ha chiamato Frank Pasquali nel Black Box Society un libro precedente a quello attuale un nuovo behaviorism un nuovo da skinner e seguaci perché perché i sistemi algoritmi è stato già precedentemente ribadito vado molto veloce perché voglio rispettare i 15 minuti è stato ribadito si tratta di modelli fondamentalmente che studiano correlazioni statistiche su quantità e norme di dati sono anche d'accordo so che ci sono ora modelli tentativi Gary Marcus per esempio di combinare modelli tradizionali logico sequenziali con reti neurali eccetera ma non mi soffermo su questo fondamentalmente in grossa parte dell'intelligenza artificiale oggi sono modelli statistici relazionali che cercano e trovano pattern configurazioni che la capacità limitata e computazione dagli umani non possono per i limiti appunto non possono trovare sono diventati sono l'imperativo di fondo che muove è quello dell'ottimizzazione dell'efficienza dell'ottimizzazione nell'elaborazione dell'informazione per poi ridurre costi e così via è l'imperativo del mainstream economico dei modelli economici negli ultimi due secoli nonostante qualche studioso un filone studioso diciamo eterogeneo che rifiutasse questo modello dell'efficientizzazione a tutti i costi dell'ottimizzazione pensate che ancora oggi si insegna nelle facoltà di economia di quasi tutto il mondo a microeconomia modelli decisionali basati sull'idea di un soggetto decisore razionale che ha conoscenza completa e perfetta del contesto decisionale quanto di più distante ci sia specialmente in questa fase storica dalla realtà questo modello decisionale ottimizzante di razionalità perfetta si muove su altri cioè adotta altri imperativi imperativi che l'intelligenza artificiale utilizza in pieno cioè quantità velocità e quindi ricerca di maggiore potenza computazionale che produce più dati e più dati richiedono maggiore potenza computazionale in feedback cumulativi che stanno portando a un consumo di energia spaventoso l'ha sottolineato uno degli interventi precedenti non riprendo vorrei approfondire ora qual è il problema grossissimo dei modelli di intelligenza artificiale e di come del modello prevalente nell'economia tradizionale con cui si interpretano sia i processi decisionali individuali sia quelli collettivi micro e macroeconomia che tutto questo di fatto anche se analizza processi non lineari si basa su un mondo che è ipotizzato come assunzione implicita lineare mentre il mondo in cui viviamo è un mondo basato sulla non linearità e faccio un esempio proprio attualissimo che è stato anche introdotto da Alex nella introduzione la capacità di individuare pattern da quantità enorme di dati non può intravedere o ipotizzare introdurre ipotesi di discontinuità ipotesi a se stesse discontinue l'esempio di Alex che è stato ripreso la pandemia e l'individuazione del vaccino la potenza computazionale ha dato un apporto l'intelligenza artificiale dato un apporto importante ma l'apporto fondamentale in un articolo su Le Monde che ha ricostruito tutta la vicenda è un'ipotesi abduttiva come ci ha spiegato ampiamente il professor Vettere elaborata da una ricercatrice ungherese in via di quell'articolo che poi sta tradotto sul primo numero dell'internazionale di quest'anno non posso ovviamente per limiti ma lo farò in un articolo chiamato all'agenda digitale Katalin Caricossi chiama questa ricercatrice ha dov'è l'ipotesi abduttiva ha fatto un'ipotesi completamente differente rispetto a modelli tradizionali non andare a studiare il DNA ma andare a studiare l'RNA l'MRNA non so non continuo su questo che è una rivoluzione paradigmatica quindi nello studio tra l'altro lo studio dell'MRNA non per la pandemia ma per studiare il cancro e altre malattie molto gravi dell'organismo umano il caso sfortunato ha voluto che nel caso della pandemia dopo molte resistenze difficoltà eccetera che non ricostruisco qui ma ricostruito molto bene nell'articolo delle Monde Katalin è riuscita a trovare ricercatori e imprenditori turco-tedeschi che hanno creduto nell'idea hanno sviluppato la tecnica allora qual è l'insegnamento di questa prima parte del tema i modelli statistico-relazionali sono in grado di individuare trend che noi non saremmo in grado ma non sono in grado di porre interrogativi di introdurre discontinuità cognitive con ipotesi abduttive introducendo modelli di causalità e cambiando ipotizzando nuovi modelli causali questo significa non faccio riferimenti espliciti che il ruolo dell'umano non è complementare è assolutamente fondamentale rispetto all'utilizzo di una potenza computazionale crescente sviluppo questo aspetto nel secondo tema che volevo affrontare per rispettare i tempi questa potenza computazionale in rete nell'infosfera o nella noosfera come la vogliamo chiamare cioè in quel mondo che oggi è diventato un intreccio dinamico continuo complesso fra lo sviluppo della mentalità individuale collettiva tra le aspirazioni e le esperienze e così via è diventata una sfera pubblica fortemente condizionata dalla potenza computazionale nelle mani dei tecnogient ma anche di altri organismi molto potenti come attraverso lo sfruttamento di questa potenza computazionale attraverso l'introduzione di programmi autonomi scripts autonomi che sono in grado di replicarsi e moltiplicarsi attrarre l'attenzione e stanno cambiando non vorrei esagerare l'ontologia delle decisioni degli umani individuali e collettivi attraverso tre meccanismi che quattro in realtà su cui non mi so fermo ma su cui c'è una letteratura di neuroscienziate molto importante come si fa oggi con questa enorme potenza computazionale e con questi autonomous scripts questi agenti autonomi che sono social bot che si comportano e interagiscono con gli agenti umani e non sono solo fake siti fake figure fake e così via hanno questi sistemi di software o micro software hanno la capacità di stimolare la focalizzazione dell'attenzione delle persone su temi che possono portare alla polarizzazione con quattro meccanismi abbastanza noti discussi in letteratura due più noti due meno noti uno è il famoso l'eco chambers cosiddetto cioè la creazione di assonanza cognitiva e la ricerca da parte dei nostri cervelli e nostre menti di sintonia di informazioni e di congruenza con chi la pensa come noi o chi la pensa in modo affine a noi e così via questi social bot riescono a sfruttare questa ricerca che è innata nel nostro cervello di cercare ovvia naturale con di cercare affinità complementarità rifiutare o essere meno attenti verso posizioni differenti questo è uno l'altro è un fenomeno meno conosciuto ma neuroscienziali su questo hanno fatto scoperte molto importanti si chiama risonanza stocastica cioè il rumore è al di sotto di una certa soglia se no disturba l'elaborazione cerebrale quindi la diffusione di informazioni sono stati fatti molti esperimenti su questo c'è una letteratura abbastanza significativa il rumore cioè fenomeni o notizie o informazioni dissonanti rispetto alle nostre quando è al di sotto di una certa soglia facilita la processo di elaborazione mentale al di sopra di una certa soglia condiziona indirizza e focalizza la nostra attenzione quindi si realizza per dirlo in termini economici ci sono saggi anche su questo fenomeni di economia dell'attenzione per cui cosa fanno le menti umane riescono a riflettere meno in situazione di eccesso di informazione e sono focalizzate verso particolari per particolari finalità che possono essere di profitto nel marketing nell'acquisto oppure nelle decisioni politiche capite subito che ci sono influenze importanti alterazioni molto importanti dei processi individuali e collettivi che mettono in discussione la libertà fondamentale libero arbitrio che è stato ricordato la libertà fondamentale dell'umano di pensare liberamente meno riesce ad acquisire altre informazioni e meno riesce a avere una consapevole elaborazione decisionale c'è l'ultimo fenomeno brevissimo che vi sottolineo studiato dai neuroscienziati è che in questo mondo focalizzato che accentra l'attenzione che l'altera si realizza un fenomeno peculiare che si chiama random exposure l'esposizione all'informazione random casuale da cui potrebbero diventare input che possono aprire la mente viene persa e quindi si rafforza la focalizzazione la polarizzazione e così via quindi noi abbiamo un fatto diciamo un dato fondamentale oggi che mette in discussione i stessi processi democratici e le decisioni micro e macroeconomiche come ora sviluppo nella terza parte la comunicazione in rete avviene oramai i dati di 5 anni fa sono per il circa il 50% poco meno del 50% delle informazioni in rete è fatta da social bot e altri tipi di bot non i bot comunque pubblici ed è un dato impressionante a livello internazionale ora sarà sicuramente aumentata in conseguenza quindi abbiamo un fenomeno che è stato sottolineato sia da Pasquali sia da altri studiosi che si occupano di sorveglianza società noi abbiamo una società che tende ad essere una black box opaca si sta opacizzando si stanno opacizzando i processi decisionali e i processi democratici per cui con la cosa paradossale che gli esiti degli script autonomi preconfezionati possono provocare esiti imprevisti straordinari e imprevedibili per cui anche i modelli il paradosso riprendo una cosa detta all'inizio anche i modelli statistico relazionali diciamo dell'intelligenza artificiale semplifico vanno incontro a una debolezza di fondo la realtà è strutturalmente incompleta il modello qualsiasi modello statistico fatto anche fatto con zettabyte di dati non può comprendere prima intravedere le discontinuità ma provoca esso stesso con i comportamenti suggeriti indotti e così via può provocare discontinuità come esempi di questo mese ci dimostrano quindi il mito dell'algorithmic decision making che viene usato per il reclutamento e passo dalla micro alla macroeconomia e quindi al terzo punto del questi sistemi algoritici per la selezione sui posti di lavoro per il predictive policy detto tra parentesi il primo tentativo che non si chiamava predictive policy ma al mondo di fare una polizia predittiva è di un carabiniere italiano a Milano comunque non racconto la storia perché sarebbe lungo tutti questi sistemi sono sistemi che favoriscono poi il condizionamento dei comportamenti qui torno al new behaviorism di cui parla Pasquali ma la raccolta di tutti e l'organizzazione e l'elaborazione e l'interpretazione di tutti questi dati dove porta una non intelligibilità della società un tema su cui Pasquali insiste molto e allora noi oggi ci troviamo di fronte a questi dilemmi macroeconomici abbiamo una potenza computazionale una capacità tecnologica tale per cui avremo molti cambiamenti di processi lavorativi di occupazione creazione di nuovi posti di lavoro e così via però abbiamo un gigantesco problema di sviluppo della consapevolezza delle nuove competenze di come dei nuovi problemi che pone l'intelligenza artificiale tra l'altro avremo anche il problema della fase di transizione che come sottolineava Keynes lo ricordava Alex il problema della scarsità in mezzo all'abbondanza lo chiamava anche lui cioè un progresso tecnologico che crea una larga fascia della popolazione che rischia nel periodo di transizione di non avere la capacità di generare la domanda per acquistare quello che questa capacità produttiva eccezionale potrebbe potrebbe quindi paradosso della povertà nell'abbondanza secondo problema macroeconomico lo sottolineava Fonayek opposto di divisione eccetera rispetto a Keynes il problema della conoscenza la conoscenza non può essere concentrata diceva Fonayek hanno ripreso in molti è dispersa distribuita e soprattutto è connessa al fatto che oggi abbiamo il problema della transizione e di non si sa quanti perderanno il posto di lavoro potranno trovarne un altro e quindi un tema che è stato caro a Fonayek è stato ripreso recentemente anche da Robert Reich di tutt'altra impostazione ex ministro del governo Clinton il problema di dare a chi non ha capacità d'acquisto eccetera un potere d'acquisto chiamate lo reddito di base universal base income si chiama originariamente però è un problema che si pone è stato anche mi avvio alla fine allora cosa ci dimostra ad esempio di Kathleen del vaccino gli esempi delle automatic scripts che condizionano influenza nei processi decisionali che il futuro non può che essere la human computing interaction ma human computing interaction richiede un gigantesco processo di trasformazione dei processi formativi in cui non ribadisco e non mi dilungo su questo si superino alcuni l'aspetto fondamentale quello dell'opacità infatti sono stato molto soddisfatto nel sentire professor Pizzetti nel ribadire l'importanza dell'articolo 28 del GDR e sviluppare nei processi formativi multidisciplinarità interdisciplinarità e anche la transdisciplinarità scusate se non posso per brevità approfondire questi argomenti quindi finisco su questo il superamento dell'opacità e di quei problemi macroeconomici connessi alla fase di enorme trasformazione che noi vivremo che la società umana vivrà a livello globale richiede cooperazione tra umani e computer ma gli umani devono fare un salto qualitativo e dovremmo speriamo spero che con la giornata di oggi si possa dare un primo possa costruire un primo passo in questa direzione grazie grazie davvero Mauro per il tuo approccio complementare e adesso sì Giusella Finocchiaro è il turno del giurista di una giurista in questo caso anche per te Giusella e tra l'altro sono orgoglioso di aggiungere che è una degli autrici degli autori di aziendadigitale.eu come anche molti degli intervenuti oggi e anche a te la possibilità di dare un apporto complementare alla discussione da un punto di vista ovviamente tipicamente prettamente giuridico grazie grazie agli organizzatori dell'incontro complimenti a te e a Guido per il bel libro e grazie ancora una volta all'accademia nel codice di internet perché di cui mi onoro di fare parte naturalmente perché ancora una volta accolto l'occasione per una bellissima discussione i nostri autorevoli colleghi hanno già esplorato tutti gli argomenti il libro esplora i rimanenti quindi a me rimane molto poco da dire se non chiederci ancora una volta come anticipava Salvatore Sica prima qual è il ruolo del giurista in tutto in questo nuovo modo in una sfida se vogliamo epocale che abbiamo davanti per molti anni noi studiosi di diritto e internet di diritto di informatica ci siamo posti il problema se fosse necessario un intervento per l'isolatore questa è stata una domanda ricorrente direi negli ultimi 30 anni sostanzialmente ci siamo sempre chiesti se una legge fosse necessaria se bastasse un'interpretazione se la giurisprudenza dovesse rinnovarsi e così via e questa domanda naturalmente ce la poniamo di nuovo davanti all'intelligenza artificiale ci vogliono leggi nuove norme nuove per un fenomeno nuovo e il problema soprattutto è chi le scrive queste leggi dal momento che ci stiamo muovendo ovviamente in un contesto globale in cui la sovranità nazionale è diciamo così residuale ecco differentemente da tante altre volte in cui la risposta si è potuta formulare in modo netto questa volta la risposta è più che mai problematica perché in effetti l'intelligenza artificiale pervade e pervaderà le nostre vite in maniera estensiva e trasversale e quindi non potremmo rispondere come rispondavamo con riferimento a applicazioni tecnologiche di tutto sommato limitate per quanto potenti come non so la prima digitale il software ci vuole una legge nuova oppure la legge non è necessaria oppure è necessaria solo in certa misura qui in realtà si tratta di un fenomeno sociale nuovo e quindi la risposta non può che essere una risposta estremamente articolata allora in alcuni casi i modelli normativi quantomeno i modelli quantomeno i caposaldi ci sono per esempio se pensiamo agli smart contract ai contratti conclusi attraverso l'intelligenza artificiale ancora i paradigmi di riferimento sono forti resistono certo richiedono delle elaborazioni inferiori delle riflessioni inferiori ma in fondo per andare alla sintesi estrema ancora il codice civile ci offre un'acoraggio sicuro ci sono altri casi in cui invece dobbiamo proprio cambiare modello e più che cambiare modello dobbiamo anche cambiare la narrazione del fatto che dobbiamo regolare e qui tocca un tema che di nuovo ha già toccato il salvatore Sicca prima e cioè il tema della responsabilità nell'intelligenza artificiale il modo in cui si regolerà il fenomeno della responsabilità dell'intelligenza artificiale dipende anche dal modo in cui noi narriamo e prospettiamo il fenomeno se naturalmente lo concepiamo nei termini più antropomofi e quindi noi parliamo di un'intelligenza personalizzata di un'intelligenza umanizzata che agisce che opera inevitabilmente questo conduce a portare una responsabilità dell'algoritmo se invece spersonalizziamo il fenomeno e lo guardiamo da un punto di vista quasi opposto quello dell'allocazione del rischio per i danni che sono eventualmente cagionati la nostra prospettiva cambia completamente quale che quale prospettiva si voglia adottare ma qui volevo solo segnalare l'importanza del modo in cui descriviamo e narriamo e quindi l'importanza della ritorica diciamo così con cui ci accostiamo questi fenomeni quale che sia la scelta che alla fine si farà e certo mi appare inevitabile scegliere un paradigma diverso un modello di responsabilità nuovo ad hoc per i fenomeni di intelligenza artificiale un altro tema sul quale probabilmente saremo chiamati a riflettere e Guido Scorza sarà chiamato a riflettere anche nella sua veste istituzionale e se la normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali sia sufficientemente ampia da poter raccogliere anche le nuove applicazioni di intelligenza artificiale o se non sia necessario rivedere alcune parti per esempio rivedere i ruoli e chiedersi se il software di intelligenza artificiale possa essere titolare possa essere responsabile o se questo sia comunque da escludersi e debba essere concepito come strumento e ancora se il consenso sia la base giuridica del trattamento più efficace anche con riferimento alle applicazioni di grandi flussi di dati o se invece non bisogna adottare un modello ancora una volta più spersonalizzato che tuteli comunque l'individuo che tuteli comunque la persona ma che faccia leva sull'altro aspetto contenuto nel GDPR centrale nel GDPR che è quello della responsabilizzazione del titolare quindi il consenso individuale sul dato o la responsabilizzazione del titolare sul modello che si va adottare ecco sono due prospettive sulle quali bisogna interrogarsi e sulle quali non escludo che ci sia bisogno in futuro di un intervento normativo un altro tema che vorrei segnalare sempre con riferimento alla protezione dei dati personali è quello relativo alla ricerca e all'utilizzo dei dati e dei dati personali per finalità di ricerca questo l'abbiamo visto in maniera assolutamente evidente negli ultimi mesi moltissime moltissimi istituti di ricerca moltissime università moltissime aziende sanitarie sanitarie si stanno prodigando per applicazioni di ricerca scientifica che abbiano oggetto i dati personali o che meglio utilizzino i dati personali per previsioni per elaborare modelli previsionali sul covid sulla diffusione del covid per elaborare contromisure per organizzare diciamo così anche la risposta sanitaria per studiare una malattia nuova di cui ancora poco sappiamo e continuare a studiarla negli anni ecco questo è uno degli esempi di ricerca scientifica forse più eclatanti in cui si utilizzano i dati sfruttando certamente la normativa emergenziale ma in cui si continueranno ad utilizzare i dati nel futuro e con riferimento a questo tipo di sfruttamenti per finalità di ricerca chiediamoci ancora una volta se il quadro normativo che ci offre il legislatore europeo e anche il legislatore italiano sia sufficiente perché non dimentichiamo che la ricerca scientifica è una delle leve più importanti da attivare nel nostro paese è uno dei settori in cui noi abbiamo maggiori capacità e in cui abbiamo anche maggiori possibilità e che dobbiamo trovare un modo ancora una volta nel rispetto dei diritti fondamentali della normativa sulla protezione dei diritti personali ma direi più in generale della persona per conciliare esigenze che solo a uno sguardo superficiale possono sembrare contrapposte torno a un tema carissimo a Franco Pizzetti che è il tema del bilanciamento ancora una volta dobbiamo cercare anche con riferimento ai nuovi fenomeni con riferimento ai fenomeni e alle applicazioni di intelligenza artificiale di bilanciare interessi contrapposti consentendo che i dati vengano utilizzati ma che vengano utilizzati in maniera sicura e utilizzare i dati in maniera sicura significa forse elaborare nuovi modelli e nuovi paradigmi che facciano riferimento non soltanto alle norme e non soltanto alle responsabilità ma anche alla tecnologia che può meglio garantire la circolazione di bene mi fermo qui con queste brevi considerazioni ci tenevo molto a essere presenti a salutare tutti i colleghi e in particolare a complimentarmi con gli autori grazie grazie giusella poi magari ti chiederò di approfondire tutte queste considerazioni aggiustando la telecamera sulla testata su cui scrivi a volte e l'ultimo intervenuto prima delle conclusioni Alessio Plebe che ci darà invece un punto di vista di filosofico e morale etico penso eccolo ciao Alessio sulla questione quindi penso sia corretto dare una conclusione di questo tipo perché è un po' un i tuoi aspetti un po' fanno da chiosa al tema e quindi Alessio se puoi contenere anche tu in pochi in pochi minuti massimo 15 in modo tale da ridurre ritardo senza altro e grazie a te sono veramente onorato di aver potuto partecipare a questo evento così ricco e interessante e in buona sostanza quello che ho ascoltato e quello che ho letto dal libro di Alessandro Longo è che l'intelligenza artificiale ha un impatto oramai considerevole importante sull'attuale società e questo vuol dire che l'intelligenza artificiale di conseguenza si collocherà nelle sue varie applicazioni in diversi punti della scala valoriale delle società ovvero in che misura le sue varie applicazioni corrispondono a quello che noi consideriamo un bene qualcosa di positivo oppure un male qualcosa di negativo e io appunto volevo soffermarmi solamente su quelli che considero i due estremi il peggio e il meglio e un peggio e meglio naturalmente con una valutazione molto soggettiva sia per quanto riguarda il mio occhio sulle varie applicazioni dell'intelligenza artificiale ma ancora di più perché sappiamo la filosofia morale non è mai stata in grado di consegnarci una graduatoria condivisa di quali sono i valori e diciamo che la moralità umana è caratterizzata da una notevole varietà di gusti pur tuttavia anche diciamo il più sfrenato relativista morale sarebbe disposto a concedere una certa convergenza su un universale ovvero che non c'è niente di peggio dell'idea di uccidere altri esseri umani e quindi io sono portato a collocare qui il peggio che può dare l'intelligenza artificiale le armi autonome sicuramente questo è un ambito così che esula un po' anche se giustamente il libro di Alessandro Longo ne fa menzione però per nostra fortuna non è questo un aspetto dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo un scontro quotidiano perché grazie a Dio non stiamo vivendo guerre in Italia da un bel po' di tempo ma non possiamo chiudere gli occhi e far finta che non ce ne siano nel mondo e io la faccio breve qui un po' la storia dell'intelligenza artificiale verso gli armamenti totalmente autonomi parte un po' da il lato benefico uno dei primissimi diciamo carri autonomi della Foster Miller un'azienda specializzata in applicazioni militari e il Telon aveva scopi benefici serviva sostanzialmente a sminare teatri di guerra pieni di mine e fu impiegato in maniera estensiva in Bosnia nel 2000 inizialmente però poi insomma l'appetito prima tanto vedendo come funzionava bene questo acceggio poi la Foster Miller ha sviluppato una variante che poteva montare alcuni armi automatiche però comandate solamente in maniera teleguidata ma da lì poi il passo è stato semplice ad arrivare a delle armi autonome come questa che sono totalmente in grado di decidere quando sparare e su chi qualcosa di simile è successo con i droni i primi droni erano solamente per videosorveglianza in militare poi furono armati ma unicamente con armamenti telecomandati quindi c'era sempre un essere umano a decidere e poi arrivare alle ultime versioni che invece hanno sistemi totalmente autonomi che sono in grado loro di decidere se e quando sparare e colpire allora diciamo la filosofia morale in sol 12 ci può dare così le due diciamo ricette principali per poter disquisire se queste cose sono accettabili o meno diciamo i capisaldi dell'etica deontologica cantiana oppure quella conseguenzialista e entrambe sono state utilizzate da diciamo chi si occupa della materia sia a favore sia contro le armi autonome e per esempio confrontate con quelle che sono diciamo le leggi internazionali in ambito di guerra e per esempio questi che sono i tre principali articoli della commissione internazionale della croce rossa i primi due in buona sostanza dicono che è possibile fare azioni di guerra purché diciamo mirando solamente ai combattenti e risparmiando il più possibile i civili la seconda che diciamo ogni attacco deve essere proporzionato al genere di minaccia a cui si sta rispondendo con l'azione di guerra infine ce n'è uno che invece dice che va assicurato il rispetto della personalità e della dignità umana e allora da un punto di vista deontologico non c'è dubbio che la dignità umana non è rispettata nel momento in cui si concede che sia una macchina a prendere autonomamente la decisione se uccide o meno chi l'essere umano per gli stati fronti quindi non c'è dubbio che questo è un elemento che cozza contro un'etica di tipo deontologica e i conseguenzialisti invece hanno giocato molto sui primi due articoli per diciamo come dire spazzare le armi autonome come una sorta di bene per l'umanità c'è stato un articolo di un consulente militare che si chiama human friendly il titolo di questo articolo in cui sostiene che le armi autonome sono amici dell'umanità perché permettono quello che con un termine orrendo viene chiamato operazione chirurgica in ambito militare ovvero di dosare nella maniera ottimale l'uccidere solo chi vuoi uccidere e risparmiando quelli che non c'entrano è un discorso scivoloso perché il punto principale è che l'intelligenza artificiale è una tecnologia relativamente a basso costo decisamente a basso costo rispetto rispetto a tecnologie militare e allora il punto di fondo è che sviluppare queste tecnologie in ambito di intelligenza artificiale lascia la possibilità a nazioni che non hanno diciamo bilanci così competitivi militari di intraprendere guerre sia per il risparmio economico e anche per il risparmio nel senso che non devono mandare sul fronte propri cittadini e la propria popolazione con la conseguenza che quelli che muoiono poi vengono diciamo ad avere una cattiva pubblicità per l'azione militare quindi il punto peggiore dell'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito militare è che un incentivo a intraprendere molte più guerre quante adesso diciamo molti paesi avrebbero diverse riduttanze a intraprendere e per fortuna diciamo esiste già un notevole movimento di reazione e di allarme rispetto all'impiego dell'intelligenza artificiale in guerra e questo comitato internazionale per il controllo delle armi robotizzate è stato pruscinato da uno dei fondatori della robotica che è uno dei pionieri della robotica all'MIT è stato seguito da diverse iniziative fra cui una delle più importanti è proprio un gruppo di controllo di esperti all'interno della convenzione sugli certi armamenti convenzionali delle Nazioni Unite permettetevi ora una brevissima parentesi tecnica però utile in questo prima di parlare del progetto maven riguardo l'intelligenza artificiale si dice spesso l'intelligenza artificiale attuale è esplosa grazie al machine learning però il machine learning inteso come un sottodominio della statistica è estremamente fuorviante quindi è bene precisare che in realtà quello che ha fatto il successo dell'intelligenza artificiale è quello come è stato ricordato da Guido Vetere più probabilmente chiamato deep learning che sono reti neurali artificiali le stesse inventate negli anni 80 con degli accorgimenti matematici per cui possono essere organizzate su tanti livelli di neuroni allora la differenza è importante perché le reti neurali artificiali in buona sostanza cercano di copiare i neuroni del cervello se vogliamo anche concedere diciamo molta ecumenicità al termine statistica anche gli organismi viventi sono diciamo delle macchine statistiche una delle teorie oggi più consolidate in ambito di scienze cognitive è quella di Carl Freeston del cosiddetto cervello predittivo ovvero che il cervello in qualunque situazione non fa altro che diciamo attuare certi meccanismi di tipo predittivo ma questo così come assunto abbastanza astratto dopodiché il punto è che il cervello è un'industria sconosciuto non abbiamo assolutamente idea di come da diciamo predizione si arrivi a fare appunto ragionamento simbolico ma non c'è dubbio che il ragionamento simbolico si fa mettendo insieme in qualche maniera i neuroni del nostro cervello ma come mettere insieme non lo sappiamo allora la visione fa una grande differenza perché per tutta una serie di motivi storici e di metodologie neuroscientifiche la visione è di gran lunga la funzione cognitiva meglio conosciuta soprattutto nei moniferi per cui nella visione c'è un dettaglio di come funziona il cervello che ha concesso diciamo molto in maniera più precisa di copiare certe architetture certe modalità di organizzazione dei neuroni come per esempio le reti convolutive e insomma tutto questo per dire che la visione artificiale è il fiore all'occhiello dell'attuale intelligenza artificiale nel bene e nel male se ne è parlato per il riconoscimento facciale poco fa ecco che quindi il pentagono quando ha lanciato il suo progetto Maven di finanziamento all'introduzione massiccia di intelligenza artificiale in ambito militare ha cercato di accordarsi con Google che detiene diciamo il sistema di sviluppo TensorFlow principale su cui si sono sviluppati i migliori modelli di riconoscimento visivo per scopi militari con un contratto riservato che però nel 2018 è stato svelato e ha provocato per fortuna una serie di reazioni inatteste ci sono state decine di persone che hanno dato le dimissioni di impiegati di Google e c'è stata una lettera firmata da più di 2000 dipendenti di Google che hanno costretto in sostanza Google a abbandonare il progetto bene considerando che il peggio secondo me è quando l'intelligenza artificiale uccide il meglio non che può essere quando invece salva vite umane e qui io credo che sono convinto che il maggior beneficio possibile dell'intelligenza artificiale possa arrivare dai sistemi di guida autonoma per i veicoli civili e io posso immaginare che Alessandro Longo possa insomma un po' essere abbastanza critico su questa mia posizione perché dice come nell'ambito della sanità di cui lui ha parlato ampiamente sia qui sia nel suo libro d'accordo senz'altro l'ambito della sanità è sicuramente quello in cui c'è più agio di poter salvare vite umane però ci sono alcuni elementi per cui io insisterei sul invece i sistemi di guida autonoma beh anzitutto i morti sulla strada sono un numero impressionante come potete vedere qui sono più o meno sempre stabili nell'ultimo 15 anni e consideriamo che per esempio prima ho parlato di guerra mediamente ogni anno muoiono circa 100.000 esseri umani nei teatri di guerra che è un numero spaventoso ma per esempio molto più basso per restare invece in ambito sanitario dei 2 milioni di morti in un anno di pandemia covid ma il milione 350.000 morti sulle strade sono dello stesso ordine di grandezza e mentre giustamente tutti i telegiornali nel mondo parlano quotidianamente del covid dei morti sulla strada non ne parla nessuno è qualcosa a cui siamo abituati e l'altro elemento è che mentre senza altro l'intelligenza artificiale è fondamentale in ambito medico però come è stato detto da molti relatori qui l'intelligenza artificiale è un supporto ma poi fondamentale è l'abilità la preparazione scientifica del ricercatore che poi individua farmaci trattamenti eccetera e quindi il ruolo dell'intelligenza artificiale è prezioso ma sempre diciamo collaterale rispetto al ruolo umano nell'ambito invece della vita autonoma non sarebbe l'intelligenza artificiale che assume veramente il ruolo fondamentale e è inutile che lo ripeto perché già ho fatto prima la mia premessa il gran vantaggio dell'attuale intelligenza artificiale nell'ambito dei trasporti è che l'elemento critico che ha diciamo penalizzato la ricerca che va avanti da circa 50 anni sui veicoli autonomi è la percezione la percezione dell'ambiente soprattutto la percezione visiva e quindi il fatto che oramai la guida autonoma si avvicina a diventare una realtà per esempio in sistemi come quelli della Tesla ma ci sono adesso anche sistemi ancora più avanzati come il com.ai o anche i sistemi di NIO che sono legati a com.ai è vicino a permettere una guida autonoma grazie proprio al progresso nell'ambito della percezione visiva che era l'ostacolo principale per poter parlare di guida autonoma ma anche qui c'è necessità di un avvertenza molti dei primi progetti di guida autonoma erano soprattutto legati al diciamo aspetti economici chiaramente l'idea da parte di che ne so Uber o anche tanti grandi sistemi di trasporto è di arrivare a risparmiare sul costo degli operatori dei trasporti degli autisti mentre per fortuna ci sono delle posizioni come questa della commissione etica della Germania del ministro dei trasporti tedesco che hanno decretato già da qualche anni che lo scopo principale della ricerca nell'ambito dei trasporti automatici deve essere quello di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti e quindi si tratta della prospettiva di salvare un numero di vite umane enorme paragonabile a quello dei morti ogni anno per il Covid io accenno così ma proprio senza soffermarmi a un altro punto in cui io sono affezionato all'idea che l'intelligenza artificiale possa fare del bene all'umanità non più per salvare vite ma per renderle felici e qui mi riallaccia a quella che trovo una perla di saggezza del filosofo Bertrand Russell il suo piccolo ma simpatico saggio il lode dell'ozio Russell lo serva acutamente come la civiltà è stata fondamentalmente un frutto dell'ozio coloro che si sono potuti dedicare alla filosofia alla letteratura alle arti sono state persone che potevano permettersi di oziare il guaio è stato che nella storia coloro che grazie all'orozio hanno portato avanti la civilizzazione lo hanno fatto alle spese di tanti che ingiustamente sono stati costretti a lavorare malamente e quindi in prospettiva l'idea di potersi liberare dalla schiavitù del lavoro è una prospettiva che diciamo pone in una luce completamente diversa l'intelligenza artificiale nella sua capacità di poter diciamo automatizzare un numero sempre maggiore di impieghi questo genere diciamo se vogliamo di utopia era stato già teorizzato poi da Gortz nel momento in cui c'era un'altra nuova tecnologia che stava emergendo che era quella della microelettronica e gli diceva la microelettronica potrebbe essere la strada per il paradiso il paradiso ovvero non essere più costretti alla schiavitù lavori diciamo poco remunerativi dal punto di vista della dignità umana tutto questo ha un suo seguito che in parte è stato citato adesso io non voglio assolutamente entrare nell'ambito dell'economia di cui mi hanno proceduto i lustri competenti io sono assolutamente incompetente ma da un punto di vista così semplicemente filosofico apprezzo questo diciamo prospettiva che diciamo ha delle difficoltà perché come ha detto in maniera molto acuta Franco Pizzetti l'intelligenza artificiale deve anche confrontarsi con quelle che sono le nostre radici culturali le nostre radici culturali sono imperneate anche di quel senso che diciamo dal calvidismo fa del lavoro ciò che mobilita l'uomo agli occhi di Dio e quindi noi abbiamo una diciamo visione idealizzata per cui non lavorare qualcosa di male di negativo e quindi è evidente che è tutto un meccanismo lungo complesso e culturale che può permettere di veramente arrivare ad apprezzare la generazione del lavoro che potrebbe essere naturalmente una volta guidata dalle opportune politiche uno dei benefici attesi dell'intelligenza artificiale bene e io ho qui grazie questa utopia effettivamente finale è anche stata ripresa da altri autori penso allo stesso Frank Pasquali che è stato citato molte volte però lui sottolinea l'importanza un po' come già dicevi tu di passare da un'economia della produzione del consumo un'economia del tempo perché altrimenti non riusciremo a fare entrare a gestire insomma questo cambiamento in cui forse lavoreremo di meno e faremo altri lavori però probabilmente lavoreremo di meno e quindi ci sarebbe tanto da dire anche a livello economico come andrebbero cambiare le cose per poter reggere ancora il sistema in quella visione che tu hai tratteggiato ora facciamo veramente le conclusioni siamo un pochino in ritardo quindi le conclusioni spettano al professor Gambino come previsto spero che tu sia stato soddisfatto della giornata di oggi allora prendo a prestito le ultime parole sull'economia del tempo e dunque a questo punto dobbiamo avere un tempo in economia vista soprattutto l'ora avremmo dovuto chiudere alle 13 ci avviamo pericolosamente verso le 13 e 30 che sia a nord che a sud è un po' la deadline nella quale cerchiamo di alimentare a questo punto anche il corpo oltre che lo spirito e voglio solo fare una brevissima riflessione più che sarebbe da parte mia troppo presuntuoso ripercorrere il dibattito e le relazioni viceversa nel metodo vorrei segnalare la ricchezza la ricchezza di questo dibattito che abbiamo avuto oggi raramente ma davvero raramente ho assistito a confronti tra saperi non solo diversi ma anche complementari che si sono sforzati di parlare lo stesso linguaggio normalmente siamo un po' rinchiusi nelle nostre piccole torri d'avorio che hanno i canoni linguistici interpretativi assiologici se vogliamo scomodare le categorie della filosofia e dei valori che ci portano a non comunicare con l'esterno e rimane normalmente un sapere per addetti ai lavori ci vogliono libri come quello di Scorso e Longo cioè libri che inevitabilmente hanno una chiave divulgativa hanno un intento divulgativo non è un caso che quando invece i libri li scriviamo noi diciamo così un po' più dentro il nostro sapere quei convegni a parte che spesso sono anche particolarmente noiosi perché non hanno la verve comunicativa tipica di quando ci si confronta e bisogna farsi capire ma anche talvolta sono limitati perché rimangono dentro delle categorie nel caso nostro giuridiche che risentono di una forza teorica che non sempre ha la conoscenza del fenomeno da un punto di vista pratico è evidente che i giuristi del ventunesimo secolo sono avvantaggiati i nativi digitali i nativi digitali sono in grado oggi di leggere fenomeni tecnologici perché si sono formati su quelli altre categorie di giuristi da un putista temporale come il sottoscritto come tanti altri devono studiare devono studiare devono studiare e lo dico ancora una volta dobbiamo studiare perché altrimenti c'è il vezzo ed è un vezzo di sentirsi padroni di una materia senza conoscere in alcun modo quali sono i meccanismi tecnologici e quindi poi la filosofia dell'algoritmo che c'è a monte di funzionamento di quel sistema e attenzione culturalmente questo è un disastro perché culturalmente questo significa che la collettività è molto bello il presupposto da cui parte Longo che io ribattezzo come lo chiamava Rodotà l'alfabetizzazione digitale la tua in fondo è un'alfabetizzazione digitale 2.0 e oltre deve partire oggi in capo alla categoria dei giuristi perché quando ci si rivolge anche semplicemente il soggetto che viene assistito professionalmente pende dalle labbra ovviamente del giurista e gli chiede ma c'è una soluzione compatibile con la protezione dei dati personali posso reagire rispetto a una lesione di un diritto che io sento che è stato violato e dall'altra parte il giurista normalmente prende i codici legge un po' di giurisprudenza che ha lo stesso difetto del giurista che la legge perché la stessa giurisprudenza non è apprezzata spesso per afferrare il fenomeno e dà talvolta dei pareri totalmente fuorvianti rispetto allo scenario nel quale ci muoviamo e questo però genera cultura giuridica volenti o non volenti per l'autorrivolezza magari di questi soggetti quindi facciamo molta attenzione a questo passaggio che se non studiano i maggiori giuristi inevitabilmente tracciano degli orientamenti che creano a questo punto un conflitto con invece il sistema normativo per altro verso i più giovani i nativi digitali che sono particolarmente ferrati nelle tecnologie spesso con tutto rispetto per quella materia diventano esperti di sociologia e anziché falsi giuristi cominciano a affrontare i sistemi con una disinvoltura che davvero lascia a bocca aperta ed è quella tipica disinvoltura di chi è pieno di passione ma non è attrezzato perché anche egli ha studiato questa volta il fenomeno tecnologico ma poco o nulla sa del sistema giuridico ed è questo passaggio questa saldatura tra le due categorie che ci consente di avere invece il metodo corretto qui grazie al cielo e ringrazio Colongo ci siamo reciprocamente seguiti nell'individuazione dei relatori ma era palese a chi ascoltava parlare i giuristi che conoscevano profondamente il sistema e viceversa chi giurista non era che aveva anche la lente del sistema e in qualche modo della cornice nella quale stava parlando e questo tipo di seminari che in qualche modo e potremmo dire anche un po' l'inaugurazione del master sull'intelligenza artificiale che nella sua riedizione oggi lanciamo con la nostra piccola università ma tenace e ben attrezzata l'Università Europea di Roma di cui mi trovo indignamente a fare il prorettore vicario è un metodo che vorrei fosse seguito anche dalle atenei maggiori che in parte lo fanno e infatti anche i docenti presenti sono ben rappresentativi di questo metodo ma in parte purtroppo non lo fanno e considerate se non abbiamo dentro le discipline universitarie una rivisitazione dei saperi in armonia con quelle che sono le novità inevitabilmente non avremo neanche i docenti attrezzati per somministrare quel sapere perché esempio banalissimo e lo facciamo ormai da tanti anni tutto il tema della privacy del DPO della compliance tutte queste capacità professionali che ormai ci sono e possono anche rappresentare almeno all'inizio una buona fonte di reddito per chi sta in quel mondo se non hanno i corsi di studi attrezzati va a finire che uno si fa quella laurea in giurisprudenza che dura cinque anni ma serve fare il DPO una laurea di cinque anni di giurisprudenza o lo dico io che evidentemente sono di parte non serve basterebbe una triennale dove dentro c'è un po' di ingegneria un po' di economia un po' di diritto poi dopo quando entriamo nel contenzioso certo che ci vuole la magistrale al ciclo unico di giurisprudenza ma per quando siamo invece in una fase consulenziale è chiaro che ci vorrebbe una bella triennale che mette insieme l'informatica e il diritto che non esiste che non esiste in Italia e sapete come si fa per sopperire si prende un corso magari di lettere una triennale di lettere e ci si innesta forzosamente dentro un grappolo di insegnamenti che hanno a che fare che so con l'informatica un progetto diabolico perché ovviamente si snatura sia il corso nel quale ci si va a innestare il sapere tecnologico sia il sapere tecnologico non ha quella riosità tipica e quindi non ha quelle basi non ha quelle basi scientifiche che avrebbe se invece fosse all'interno di una nuova classe di lauree questo è un tema di fondo che affronta anche il volume di scorsa è lungo perché c'è sullo sfondo le competenze e il tema delle competenze e solo attraverso questi confronti tra saperi diversi può essere segnalato al decisore che poi alla fine volenti o non letti è il Parlamento il Governo il Ministero che c'è una forte esigenza di ricalibrare in termini di competenze il settore dei saperi che hanno a che fare con l'oggetto del nostro incontro cioè l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale che va di moda tutti ne parlano qui se ne è parlato devo dire in maniera molto competente ma che proprio perché tutti ne parlano è uno di quei temi rischiosissimi perché si può dire tutto il contrario di tutto cioè non stiamo parlando che so penso alla mia materia del retratto successorio che adesso se io vado a chiedere a uno studente di diritto privato forse neanche si ricorda più che cosa è il retratto successorio mentre parlando dell'intelligenza artificiale chiunque su un fondo su un bloc può dire la sua su quel tema non è vero non è vero non è così per poterne parlare compiutamente bisogna conoscerne non solo i fondamenti economici di quello che c'è dietro il disegno e l'utilità che viene a diventare una sorta di infrastruttura tecnologica anche per la finalità di lucro evidentemente di chi ci investe molto ma anche quella che è la filosofia che sta muovendo il mondo per me diventa importante che continuiamo su questa filiera di confronto ovviamente con tutti i tempi necessari un po' di anni fa con due colleghi che abbiamo fondato una rivista scientifica dove abbiamo come manifesto costitutivo nuovo diritto civile si chiama abbiamo fatto un manifesto del pensiero lento del pensiero lento il pensiero lento è uno stile di vita è una filosofia e non lasciarsi imbrigliare dalla rapidità della tecnologia ma sapere che c'è un pensiero che resiste anche al progresso quello un po' becero quello un po' finalizzato soprattutto all'utilità immediata se però quel pensiero è fondato da un punto di vista scientifico e quindi permeato anche di conoscenza degli altri saperi altrimenti diventa filosofia lo stato puro ottimo magari per la formazione del pensiero dell'anima la sublimazione del nostro essere ma totalmente inadeguato per quello che invece è lo strumento che bisogna dare ai nostri discenti in fondo i master servono a questi per poter inserirsi in un mondo ben attrezzato e che soprattutto ha una finalità spiccatamente economica quindi davvero grazie moltissimo per aver dato all'Italian Academy of the Internet Code questa occasione di confronto su un bel volume so che è l'ennesima presentazione che facciamo ma evidentemente non è casuale ci sono tanti volumi che non si fa neanche la presentazione se di questo se ne continua a parlare ci si confronta intorno a questo strumento perché poi i libri sono degli strumenti anche per apprendere contenuti nuove idee è davvero anche il pregio di questo lavoro quindi essendo arrivato all'orario in cui andiamo a ritemprare appunto il corpo ringrazio tutti i partecipanti che ho visto tra l'altro sono stati moltissimi e abbiamo anche registrato quindi adesso poi con lungo e scorza vedremo come magari in pillole distribuire alcuni interventi con ovviamente il consenso dei relatori e magari poi vedrete pubblicate anche online tante di queste relazioni grazie davvero e a questo punto buon proseguimento buon pomeriggio a tutti